Libro VI Un monaco russo Lo Starec Zosima e i suoi ospiti Quando Agiosha entrò nella cella dello Starec, con il suo cuore gonfio di ansia e dolore, egli rimase incantato dallo stupore. Invece del malato in punto di morte, forse anche privo di conoscenza che temeva di trovare, egli lo vide a un tratto che se ne stava seduto sulla sua sedia, con il viso arzillo e allegro, sebbene finito per la debolezza, circondato da ospiti e impegnato con loro in una tranquilla e serena conversazione. Invero si era alzato dal letto solo un quarto d'ora prima che arrivasse Agiosha. Gli ospiti si erano raccolti già dapprima nella sua cella ed erano rimasti in attesa che egli si svegliasse, confidando nella ferma dichiarazione di Padre Paesì che il maestro si sarebbe senza dubbio alzato per parlare ancora una volta a coloro che erano vicini al suo cuore, come egli stesso aveva annunciato e promesso quella mattina. Padre Paesì credeva fermamente in quella promessa, come del resto ad ogni parola pronunciata dallo Starec morente, tanto che se lo avesse visto ormai privo di conoscenza o addirittura aspirare il suo ultimo respiro, ma avesse ricevuto da lui la promessa che si sarebbe alzato per dargli l'ultimo saluto, egli forse non avrebbe creduto neppure alla morte e avrebbe atteso che il morto tornasse in sé per mantenere la promessa. Quella mattina, infatti, lo Starec Zosima gli aveva detto, prima di addormentarsi, «Non morirò prima di inebriarmi ancora una volta della conversazione con voi, che amo con tutto il cuore, prima di guardare ancora una volta i vostri cari visi e diffondere in voi la mia anima». Coloro che si erano riuniti in occasione di quella che, presumibilmente, sarebbe stata l'ultima conversazione con lo Starec, erano da lunga data i suoi amici più devoti. Erano quattro gli ieromonici padre Iosif e padre Paesì, lo ieromonaco padre Mikhail, superiore dell'eremo, uomo tutt'altro che vecchio, lungi dall'essere un erudito, di umili origini ma di spirito forte e di fede semplice e incrollabile, dall'aspetto severo ma dal cuore pervaso di profonda pietà, che però cercava di celare come se fosse una vergogna. Il quarto, fratello Anfim, era un monacello vecchio, semplice semplice, di umilissima origine contadina, quasi analfabeta, quieto e taciturno, che non parlava quasi mai con nessuno, il più umile fra gli umili. Egli aveva l'aria di chi sia rimasto spaventato una volta per tutte da qualcosa di sublime e terribile, superiore alle capacità del suo intelletto. Nostarec, Zosima, amava moltissimo quel uomo, diciamo così, tremante, e per tutta la sua vita gli aveva portato un rispetto tutto speciale, sebbene forse non ci fosse stata persona nella sua vita con la quale avesse scambiato meno parole, pur avendo in passato trascorso molti anni in pellegrinaggio solo con lui per tutta la Santa Russia. Risaliva questo a molti anni addietro, una quarantina d'anni, al periodo in cui lo Starec Zosima aveva appena intrapreso la vita monastica nel povero e oscuro monastero di Kostroma, e poi, poco tempo dopo, aveva accompagnato padre Anfim in pellegrinaggio per accogliere offerte a favore del loro povero monastero di Kostroma. Si trovavano tutti, padrone di casa e ospiti, nella seconda stanza dello Starec. Quella con il letto, una stanza molto angusta, come è stato detto in precedenza, tanto che loro quattro, a parte il novizio Porfiri, che era rimasto in piedi, a malapena riuscivano a stare seduti intorno allo Starec, sulle sedie che erano state prese dalla prima stanza. Cominciava a fare scuro, la stanza era illuminata, dalle lampade e dai ceri che ardevano davanti alle icone. Nel vedere Agiosha, che stava in piedi, tutto impacciato all'ingresso, lo Starec gli sorrise con gioia e tese la mano verso di lui. «Salve, Keto figliuolo, salve caro, ecco che sei arrivato anche tu. Sapevo che saresti venuto». Agiosha gli si avvicinò, si prostrò fino a terra davanti a lui e scoppiò a piangere. Qualcosa si era lacerato nel suo cuore. La sua anima tremava, aveva voglia di singhiozzare. «Che fai? Aspetta a piangermi», disse lo Starecci sorridendo e poggiando la mano destra sul suo capo. «Vedi, me ne sto qui a chiacchierare e forse vivrò vent'anni ancora come mi ha augurato ieri quella dolce, cara donna di Vichgorè con la figlioletta Elisaveta in braccio. Ricordati, o Signore, di quella madre e della sua bambina, Elisaveta, e si fece il segno della croce. «Porfiri, hai portato la sua offerta dove ti avevo detto?» Egli si era ricordato delle sessanta copecche che quella fedele dal cuore lieto gli aveva donato il giorno prima perché li desse a chi era più povero di lei. Quelle offerte sono come delle penitenze che ci si impone spontaneamente per qualche ragione e debbono consistere immancabilmente in denaro guadagnato con la propria fatica. Lo Starecci aveva mandato Porfiri sin dalla sera prima da una nostra concittadina alla quale di recente si era incendiata la casa. Una vedova con figli che dopo l'incendio si era ridotta a chiedere l'elemosina. Porfiri si affrettò a rispondere che aveva già eseguito l'incarico e che aveva consegnato l'offerta da parte di un'ignota benefattrice come gli era stato ordinato. «Alzati, caro!» Prosegui lo Starec rivolto ad Aglioscia. «Fatti guardare!» «Sei stato dai tuoi e hai visto tuo fratello?» Ad Aglioscia sembrò strano che gli avesse chiesto con tanta sicurezza e precisione di uno soltanto dei fratelli ma di quale stava parlando. Voleva forse dire che sia ieri sia oggi lo aveva mandato in città proprio per via di quel fratello? «Ho visto uno dei fratelli» rispose Aglioscia. «Parlo del maggiore, quello davanti al quale ieri mi sono inchinato fino a terra.» «Quello l'ho visto soltanto ieri. Oggi non sono riuscito in alcun modo a trovarlo» disse Aglioscia. «Affrettati a trovarlo. Tornaci ancora domani e affrettati. Lascia tutto e affrettati. Forse farai ancora in tempo a impedire che accada qualcosa di orribile. Ieri mi sono inchinato davanti alla grande sofferenza che gli riserva il futuro.» Poi tacque di colpo e rimase come assorto. Erano parole strane. Padre Iosif che il giorno prima era stato testimone dell'inchino fino a terra dello Starec scambiò un'occhiata con padre Paesì. Aglioscia non riuscì a trattenersi. Padre e maestro e gli gridò in preda a una forte agitazione le vostre parole sono troppo oscure. Quale sofferenza gli riserva il futuro? Non essere curioso. Mi è sembrato di vedere qualcosa di terribile ieri come se il suo sguardo di ieri esprimesse tutto il suo destino. Per un momento i suoi occhi hanno avuto un'espressione tale che per un attimo ho provato orrore nel mio cuore per ciò che quell'uomo sta preparando a se stesso. Una volta o due nella vita mi è capitato di vedere una simile espressione che sembrava raffigurare il destino intero di quegli uomini e il loro destino ahimè si è compiuto. Ti ho mandato da lui Alexei già che ho pensato che il tuo viso fraterno lo avrebbe aiutato. Ma tutto tutti i destini nostri dipendono da Dio. Se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane infecondo se invece muore produce molto frutto. ricordati di questo Alexei molte volte nella mia vita ti ho benedetto nella mia mente per il tuo viso sappilo disse lo starci con un sorriso quieto questo penso di te tu uscirai da queste mura e vivrai nel mondo come un monaco avrai molti avversari ma perfino i tuoi peggiori nemici ti ameranno la vita ti porterà molte disgrazie ma proprio per esse tu sarai felice e benedirai la vita e quel che è più importante indurrai gli altri a benedirla tu sei fatto così padri e maestri miei disse con un sorriso commosso rivolgendosi a tutti i suoi ospiti fino ad oggi non ho mai detto a nessuno neanche a lui il motivo per il quale il viso di questo giovane è così caro alla mia anima lo dirò soltanto adesso il tuo viso è stato come un ammonimento è una profezia per me all'alba della mia vita quando ero un bambino avevo un fratello maggiore che morì giovane davanti ai miei occhi a soli 17 anni e in seguito nel corso della mia vita sono andato gradualmente convincendomi che quel mio fratello era come un'indicazione e una predestinazione del cielo per me giacché se non fosse comparso nella mia vita se non fosse esistito forse così penso io non avrei mai preso i voti di monaco e non avrei mai imboccato questa preziosa via questa apparizione risale alla mia infanzia ma ecco che sul declinare del mio cammino me ne è riapparsa davanti ai miei occhi una sorta di ripetizione è meraviglioso padri e maestri che pur non avendo che una leggera somiglianza nel volto Alexei mi sia tuttavia sembrato spiritualmente affine a lui a tal punto che molte volte l'ho considerato esattamente come quel giovane mio fratello tornato in segreto da me alla fine del mio cammino a guisa di ammonimento e ispirazione mi sono perfino meravigliato tra me e me di una fantasticheria così strana hai sentito Porfiri e si rivolse al novizio che si prendeva cura di lui molte volte ho scorto nel tuo viso una sorta di amarezza perché voglio più bene ad Alexei che a te adesso ne conosci il motivo ma io ti voglio bene sappilo e molte volte mi ha addolorato vedere la tua amarezza cari ospiti anche a voi voglio rendere nota la storia di quel giovane mio fratello già che nella mia vita egli è stato la presenza più preziosa profetica e commovente il mio cuore trabocca di tenerezza e in questo momento tutta la vita mi scorre davanti agli occhi come se la stessi rivivendo a questo punto devo notare che l'ultima conversazione dello Stares con gli ospiti convenuti l'ultimo giorno della sua vita si è parzialmente conservata in forma scritta fu Alexei Fyodorovich Karamazov a scriverla qualche tempo dopo la morte dello Stares a memoria ma se si tratti esclusivamente della conversazione che effettivamente belloogo quel giorno o se gli abbia aggiunto ai suoi appunti straci di conversazioni precedentemente avute con il suo maestro questo non sono in grado di stabilirlo inoltre in questo scritto lo Stares parla ininterrottamente come se esponesse la sua vita in forma di racconto rivolgendosi ai suoi amici quando non vè dubbio in base ad altre versioni che le cose andarono diversamente già che si trattò di una conversazione generale inoltre anche se gli ospiti non interruppero spesso il padrone di casa tuttavia anche loro parlarono si inserirono nella conversazione fecero delle confidenze e forse raccontarono qualcosa a loro volta e poi lo Stares non avrebbe mai potuto tenere quel discorso ininterrottamente se che spesso aveva l'affanno la voce gli veniva meno si sdraiava persino a riposare sul suo letto anche se non si addormentava e gli ospiti non si alzavano dai loro posti la conversazione fu interrotta un paio di volte per la lettura del Vangelo eseguita da padre Paesì è da notare pure che nessuno di loro avrebbe mai pensato che gli sarebbe morto quella notte stessa tanto più che in quell'ultima serata della sua vita dopo il profondo sonno diurno egli sembrava aver riacquistato nuove forze che lo sostennero nel corso di tutta questa lunga conversazione con gli amici era come se un'estrema commozione alimentasse in lui un'indecibile energia ma soltanto per un breve periodo poiché la sua vita fu interrotta bruscamente ma di questo parleremo dopo per ora aggiungerò soltanto che ho preferito qui a tenermi esclusivamente al racconto dello Starec contenuto nel manoscritto di Alexei Fedorovic Karamazov per ora aggiungerò soltanto che ho preferito qui a tenermi esclusivamente al racconto dello Starec contenuto nel manoscritto di Alexei Fedorovic Karamazov senza dilungarmi in tutti i particolari della conversazione così il racconto sarà più breve e non tanto faticoso sebbene ovviamente lo ripeto Agiosha abbia attinto molto materiale da precedenti conversazioni e lo abbia aggiunto alla conversazione di quella sera dalla vita dello ierosimonico Starec Zosima defunto in Dio composta secondo le sue proprie parole ad opera di Alexei Fedorovic Karamazov note biografiche a dove si parla del giovane fratello dello Starec Zosima padri e maestri miei diletti io nacqui in un lontano governatorato nel nord nella città di da un padre nobile ma non illustre né di alto grado gerarchico egli morì quando io avevo solo due anni e non conservo alcun ricordo di lui egli lasciò alla mia cara madre una casetta di legno e un piccolo capitale non abbondante ma sufficiente a garantire una vita dignitosa a se stessa e ai figli noi figli eravamo solo due io Zinovi e mio fratello maggiore Markel questi aveva circa otto anni più di me era di carattere irascibile e irritabile ma buono alieno dalla derisione e stranamente taciturno soprattutto in casa con me con la madre e la servitù al ginnasio aveva un buon profitto ma non andava d'accordo con i compagni sebbene non litigasse mai con loro almeno così mi diceva mia madre sei mesi prima della sua morte all'età di 17 anni egli aveva preso l'abitudine di frequentare un uomo che conduceva una vita isolata una specie di esiliato politico che proveniva da Mosca ed era stato confinato nella nostra città per il suo libero pensiero era un bravo studioso e un filosofo di fama dell'università chissà perché egli si affezionò a Markel e prese l'abitudine di invitarlo a casa sua il ragazzo trascorse intere serate da lui durante tutto l'inverno fino a quando non richiamarono l'esiliato al servizio statale a Pietroburgo dietro a sua richiesta personale già che vantava dei protettori ebbe inizio la qualesima e Markel non voleva rispettare il digiuno anzi bestemmiava e ci scarzava sopra sono tutte sciocchezze e non c'è nessun dio diceva tanto da fare inorridire mia madre la servitù e persino me anche se avevo solo nove anni sentendo le sue parole mi spaventavo moltissimo anch'io la nostra servitù era composta interamente da servi della gleba erano quattro persone tutte comprate a nome di un proprietario terriero di nostra conoscenza ricordo ancora di quando mia madre vendette una di quei quattro la cuoca la fimia zoppe anziana per 60 rubli di carta e al suo posto assoldò una serva libera ed ecco che la sesta settimana di quaresima mio fratello che era sempre stato cagionevole di debole costituzione e inclina alla tubercolosi peggiorò all'improvviso di statura era piuttosto alto ma era minuto e delicato con un viso molto bello doveva essersi raffreddato ma venne il dottore e subito sussurrò all'orecchio della madre che si trattava di tisica loppante e che non sarebbe arrivato a primavera nostra madre si mise a piangere e cominciò a insistere con grande cautela per non spaventarlo perché mio fratello andasse in chiesa a confessarsi e a prendere la santa comunione in che era ancora in grado di reggersi in piedi questo lo fece inalberare egli ingiurò la chiesa di dio ma poi si fece pensieroso egli intuì di colpo di essere gravemente malato e che era questo il motivo per il quale nostra madre lo voleva mandare a confessarsi e a fare la comunione fin tanto che ne aveva le forze del resto da tempo sapeva anche lui di non godere buona salute da un anno prima infatti mentre eravamo a tavola io e lui e mia madre egli avevo osservato freddamente non vivrò a lungo su questa terra con voi forse non camperò neanche un altro anno il che si rivelò una giusta profezia passarono tre giorni ed ebbe inizio la settimana santa ed ecco che martedì mio fratello iniziò ad osservare il digiuno lo faccio solo per voi mamma per farvi contenta e farvi stare tranquilla le disse mia madre scoppiò a piangere per la felicità ma anche per il dolore vuol dire che la sua fine è vicina se è avvenuto in lui un tale cambiamento ma non pote continuare a lungo a recarsi in chiesa e gli fu costretto a letto tanto che lo confessarono e gli impartirono la comunione in casa vennero giorni luminosi limpidi odorosi quell'anno la pasqua era tardiva ricordo che tossiva per tutta la notte dormiva male ma la mattina si vestiva sempre e tentava di mettersi a sedere in una soffice poltrona ecco come lo ricordo seduto tranquillo gentile sorridente con il viso allegro gioioso malgrado la malattia era completamente cambiato dal punto di vista spirituale di colpo aveva avuto inizio in lui una trasformazione meravigliosa la vecchia balia entrava spesso da lui e gli diceva permetti che accenda anche qui la lampada davanti alle immagini tesoruccio in passato egli non glielo permetteva anzi la spengeva persino quella lampada se la trovava accesa accendila accendila pure cara sono stato cattivo a vietartelo in passato accendendo la lampada è come se tu pregassi Dio e anche io prego rallegrandomi per te così preghiamo tutti e due lo stesso Dio si sembravano strane quelle parole e mia madre si ritirava a piangere in camera sua ma quando entrava nella sua camera si asciugava le lacrime e assumeva un'aria allegra mamma non piangere tesoro mio le diceva ho ancora molto da vivere e molto da gioire qui con voi e la vita la vita è allegra piena di gioia ah figlio mio ma di quale allegria parli se la notte ardi per la febbre e tossisci tanto che a momenti ti si lacera il petto mamma le rispondeva non piangere la vita è un paradiso e noi siamo tutti in paradiso solo che non lo vogliamo vedere ma se volessimo vederlo domani stesso tutto il mondo diventerebbe un paradiso e tutti si meravigliavano delle sue parole tanto strano e deciso era il tono con cui le diceva si commuovevano e piangevano venivano a trovarci i nostri conoscenti cara cosa ho fatto per meritarmi il vostro amore per quale motivo mi amate tanto e come ho fatto a non accorsermene prima a non apprezzarlo ai servi che entravano nella sua camera egli diceva di continuo cari perché vi affannate a servirmi mi merito io che voi mi serviate se Dio avesse misericordia di me e mi lasciasse tra i vivi sarei io a mettermi a servire voi già che tutti devono servirsi l'un l'altro la madre sentendolo parlare scuoteva il capo figlio mio è la malattia che ti fa parlare così mamma gioia mia se non è possibile che cessino di esistere padroni e servi lascia almeno che io faccia il servo ai miei servi così come loro servono me e vi dirò ancora una cosa mamma che ciascuno di noi è colpevole davanti a tutti per tutto e io più di tutti gli altri nostra madre sorrisse persino di queste parole piangeva e sorrideva e in che cosa saresti colpevole tu più di tutti gli altri davanti a tutti fuori ci sono assassini criminali e tu quali peccati hai avuto il tempo di commettere dal momento che accusi te stesso più degli altri mamma gocciolina del mio sangue aveva preso l'abitudine di usare espressioni dolci insolite gocciolina mia cara gioiosa sappi in verità che ciascuno è colpevole davanti a tutti per tutti e per tutto non so come spiegartelo ma sento che è così lo sento fino a provarne tormento e come abbiamo fatto a vivere sino ad oggi adirandoci senza sapere nulla così ogni giorno si alzava sempre più per vaso di commozione e di gioia tutto palpitante di amore quando veniva il dottore un tedesco un uomo anziano si chiamava Eisen Schmidt gli diceva scherzando e allora dottore se la faccio a vivere ancora una giornatina a questo mondo non un giorno solo ma molti giorni vivrete ancora gli rispondeva il dottore e mesi e anni vivrete ma che mesi e che anni esclamava per tutta risposta a che serve contare i giorni quando basta un solo giorno per conoscere tutta la felicità possibile miei cari a che serve litigare mettersi in mostra e salvare rancore l'uno con l'altro andiamo direttamente in giardino a giocare mettiamoci a passeggiare e a giocare amiamoci e lodiamoci l'un l'altro baciamo e benediciamo la nostra vita vostro figlio non vivrà a lungo diceva il dottore alla mamma quando lei lo accompagnava alla porta la malattia gli sta prendendo il cervello le stanze della sua camera davano sul giardino e il nostro giardino era umbroso con alberi secolari sugli alberi crescevano le gemme primaverili arrivavano in volo i primi uccellini cinquettando e cantando accanto alle sue finestre ed egli li ammirava estasiato e chiedeva scusa anche a loro uccellini di Dio uccellini gioiosi perdonatemi anche voi perché anche davanti a voi ho peccato nessuno di noi capiva allora che cosa volesse dire mentre lui piangeva dalla gioia sì c'era una tale gloria di Dio intorno a me gli uccellini gli alberi i campi il cielo solo io vivevo nella vergogna solo io disonoravo tutto e non notavo affatto la vostra bellezza e la vostra gioia prendi troppi peccati su di te gli diceva piangendo a nostra madre mamma gioia mia sto piangendo per la gioia non per dolore anche se non riesco a spiegartelo lo stesso voglio essere colpevole dinanzi a loro giacché non so nemmeno come amarli ammesso che io abbia peccato con tutti in compenso tutti mi perdoneranno e così sarà il paradiso non mi trovo forse in paradiso adesso e ci sono ancora molte cose che non sto qui a ricordare e ad inserire nel mio racconto ricordo che una volta entrai nella sua camera quando non c'era nessuno era una bella serata il sole stava tramontando e la stanza era illuminata da un raggio obliquo quando mi vide mi chiamò io mi avvicinai e gli mi mise le mani sulle spalle mi guardò commosso negli occhi con tanto affetto non disse nulla ma continuò a guardarmi così per un minuto beh adesso vai va a giocare vivi anche per me allora io uscii e andai a giocare e intanto nella vita ho ricordato molte volte fra le lacrime come mi aveva ordinato di vivere anche per lui ci disse ancora molte parole sorprendenti e bellissime anche se incomprensibili per noi allora egli morì la terza settimana dopo Pasqua nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e sebbene avesse smesso anche di parlare egli non mutò fino all'ultima sua ora aveva un aspetto gioioso nei suoi occhi c'era serenità ci cercava con lo sguardo ci sorrideva ci chiamava persino in città si parlò della sua morte a quel tempo fui colpito da quegli eventi ma non troppo anche se piansi molto quando lo seppellirono ero giovane allora un bambinetto ma nel mio cuore ogni particolare si fissò indelebilmente ne restò celata la sensazione a suo tempo tutto si sarebbe risvegliato e avrebbe dato i suoi frutti e così è stato B dove si parla delle sacre scritture nella vita di padre Zosima rimanemmo soli io e mia madre dei buoni conoscenti le dettero ben presto il seguente consiglio vi è rimasto un solo figlioletto poveri non siete disponete di un capitale quindi perché non fate come fanno tutti mandate vostro figlio a Pietroburgo lasciandolo qui lo potreste privare di un brillante futuro consigliarono a mia madre di mandarmi nel corpo dei cadetti a Pietroburgo per poi entrare nella guardia imperiale mia madre esitò a lungo era difficile separarsi dall'unico figlio rimastole tuttavia si decise anche se con molti pianti pensando così di garantire la mia felicità mi portò a Pietroburgo e mi sistemò lì da quel giorno non la vidi mai più infatti ella morì tre anni dopo e per tutti quegli anni non aveva fatto che soffrire e trepidare per sé e per me nella casa paterna mi sono rimasti solo preziosi ricordi già che non c'è nulla di più prezioso per un uomo dei ricordi che risalgono alla prima infanzia nella casa paterna ed è quasi sempre così anche se nella famiglia c'è stato solo un filo di amore e concordia anche della famiglia peggiore si possono conservare ricordi preziosi basta solo che la tua anima sia capace di cercare le cose preziose fra i ricordi di casa mia annovero anche i ricordi sulle sacre scritture che ero molto curioso di conoscere fin dai tempi nella casa paterna sebbene fossi molto piccolo avevo un libro allora una storia sacra con bellissime illustrazioni dal titolo 104 storie sacre del vecchio e del nuovo testamento fu su quello che imparai a leggere ancora adesso lo conservo qui nello scaffale lo conservo come un ricordo prezioso ma ricordo che ancora prima che imparassi a leggere all'età di otto anni per la prima volta mi visitò un profondo sentimento di devozione mia madre mi stava portando alla messa nella casa del signore il lunedì della settimana santa c'era soltanto io non ricordo dove fosse mio fratello allora era una bella giornata e ricordo come fosse adesso l'incenso che si diffondeva dal turibolo e fluttuava dolcemente verso l'alto mentre nella cupola dallo stretto occhio si riversavano sopra di noi che eravamo in chiesa i raggi del sole e l'incenso salendo ad ondate sembrava sciogliersi in essi io guardavo commosso e per la prima volta nella mia vita quel giorno consapevolmente accolsi nell'anima mia il primo seme della parola di Dio un adolescente avanzò verso il centro della chiesa con un grosso libro così grosso da reggerlo a fatica almeno così mi sembrò allora lo poggiò sul leggio lo aprì e cominciò a leggere per la prima volta all'improvviso io capii qualcosa per la prima volta nella vita capii quello che si legge nella chiesa di Dio nel paese di Us viveva un uomo giusto e timorato di Dio ed egli possedeva molte ricchezze un gran numero di cammelle di pecore di asine i suoi figli menavano vita allegra ed egli li amava molto e pregava Dio per loro nel timore che menando vita allegra essi potessero peccare un giorno insieme ai figli di Dio si reca da Dio anche il diavolo e dice al Signore che egli ha girato per tutta la terra e sotto terra ed hai notato il mio schiavo Giobbe gli domanda Dio e Dio si vanta con il diavolo indicandogli il grande santo suo schiavo consegnalo a me e vedrai che il tuo servo si lamenterà di te e mi ridirà il tuo nome e Dio consegnò al diavolo il suo giusto che tanto amava e il diavolo colpì i suoi figli e i suoi armenti disperse le sue ricchezze tutto ad un colpo come un fulmine divino e Giobbe si lacerò le vesti si gettò per terra ed esclamò in adorazione nudo sono uscito dal ventre di mia madre e nudo tornerò alla terra il Signore ha dato il Signore ha tolto che il nome di Dio sia benedetto nei secoli dei secoli padri e maestri abbiate indulgenza per queste mie lacrime giacché è come se in questo momento la mia infanzia tutta risorgesse davanti a me e io respiro adesso come respiravo allora con il piccolo petto di un bambino di otto anni e sento lo stesso stupore lo stesso turbamento e la stessa felicità di allora la mia immaginazione allora fu catturata da quei cammelli da Satana che parlava a quel modo con Dio e Dio che consegnava il suo schiavo alla rovina e il suo schiavo che gridava che sia benedetto il tuo nome nonostante la punizione che mi infliggi e poi sommesso e dolce canto della chiesa fa che la mia preghiera salga fino a te ed immuovo l'incenso dal turibolo del prete e la preghiera di noi tutti inginocchiati da allora non riesco a leggere quel sacro racconto senza piangere anche ieri l'ho riletto quanta grandezza quanto mistero e quanta imperscruttabilità vi ha in esso in seguito udì le parole degli schernitori e dei denigratori parole di orgoglio come ha potuto il signore cedere il prediletto fra i suoi santi per il divertimento del diavolo sottrargli i figli colpire lui stesso con la malattia e le piaghe tanto che egli si raschiava la putredine delle sue ferite con un coccio e a che scopo solo per vantarsi dinanzi al diavolo per poter dire ecco che cosa è capace di sopportare il mio santo per amore mio ma la grandezza di questa storia è nel suo mistero l'effimero volto della terra e la verità eterna vi confluiscono insieme attraverso la verità terrestre si compie l'azione della verità eterna il creatore è qui come nei primi giorni della creazione sua quando al termine di ogni giornata pronunciava la lode è buono ciò che ho creato guarda Giobbe e loda l'opera sua e Giobbe lodando il Signore serve non soltanto lui ma l'intera sua creazione per generazioni e generazioni nei secoli dei secoli già che proprio a questo egli era destinato Signore che libro ci hai dato e quali insegnamenti che libro è questa Bibbia quali meraviglie quale forza è stata data all'uomo attraverso di essa è come il modello del mondo e dell'uomo e del carattere degli uomini tutto viene nominato e indicato per i secoli dei secoli e quanti misteri vi sono risolti e svelati Dio risolleva Giobbe gli dona nuove ricchezze passano molti anni ed ecco che egli ha altri figli e li ama ma Dio mio si potrà dire come è possibile che egli possa amare questi nuovi figli quando quelli di prima non ci sono più quando li ha perduti a ricordo di quelli poteva egli essere perfettamente felice come prima per quanto questi nuovi figli gli potessero essere cari ma egli poteva sì poteva l'antico dolore per il grande mistero della vita umana si trasforma gradualmente in una calma commossa gioia la mite serenità della vecchiaia prende il posto del sangue ardente della giovinezza benedico il sorgere del sole ogni giorno e il mio cuore come sempre canta in suo onore ma adesso amo ancora di più il suo tramonto i suoi lunghi raggi obliqui e con essi i quieti dolci teneri ricordi le dolci immagini di tutta la mia lunga vita benedetta e su ogni cosa la verità divina che tutto lenisce conciglia e perdona la mia vita volge alla fine lo so lo sento ma in ogni giorno che mi rimane sento come la mia vita terrena sia già in contatto con una vita infinita ignota e incalzante e questo presentimento fa trepidare di esultanza la mia anima fa risplendere la mia mente e piangere di gioia il mio cuore amici e maestri ho sentito più volte soprattutto negli ultimi tempi che da noi sacerdoti di dio soprattutto quelli dei villaggi si lamentano dolorosamente dappertutto per le scarse entrate per la propria vita umiliante essi dichiarano persino per iscritto l'ho letto io stesso di non essere più in grado di leggere le scritture al popolo per via della penuria dei loro mezzi e che se i luterani e gli eretici venissero a portare via i loro grezze loro lo lascerebbero andare giacché dicono scarse sono le entrate signore dio che tu possa aumentare le loro entrate giacché giusta e la loro lamentela ma in verità vi dico se c'è un colpevole per questo per metà siamo colpevoli noi stessi ammettiamo pure che non abbiamo tempo ammettiamo che essi giustamente si lamentino di essere sempre oberati dal lavoro e dai servizi ma questo non sarà vero per tutto il tempo avranno almeno una sola ora alla settimana per ricordare dio e poi non si lavora tutto l'anno che raccolgono intorno a sé una volta alla settimana di sera anche soltanto i fanciulli per cominciare i padri ne avranno notizia e cominceranno a venire anche loro non occorre mica costruire un palazzo per questo basta accoglierli nella propria isba non abbiamo timore che quelli sporchino la loro casa ci resteranno soltanto per un'ora che aprano quel libro e comincino la lettura senza parole astruse e senza alterigia senza elevarsi sopra di loro ma con tenerezza e umiltà felici di leggere ai loro fedeli e che essi li ascoltino e li comprendano e pieni di amore verso le parole della lettura che si fermino solo di tanto in tanto per spiegare le parole che i semplici non possono capire ma che non si preoccupino e si capiranno tutto tutto comprende il cuore ortodosso che leggano la storia di abramo e sacra di isacco e rebecca di come giacobbe andò da labano e in sogno lottò con dio e disse questo posto è terribile e tutto questo rimarrà impresso nelle menti della gente semplice che leggono leggono soprattutto ai bambini di come i fratelli vendettero come schiavo giuseppe il mite adolescente sognatore e grande profeta e dissero al padre che una belva aveva dilaniato suo figlio mostrandogli la sua tunica insanguinata che leggono come poi i fratelli si recarono in egitto per comprare il grano e giuseppe già nominato vicere e da loro non riconosciuto li tormentò li accusò e trattenne il fratello beniamino e tutto per amore vi amo e vi tormento perché vi amo già che per tutta la vita aveva serbato il ricordo di come l'avevano venduto ai mercanti nel deserto rovente presso un pozzo e di come lui tormentandosi le mani aveva pianto e supplicato i fratelli di non venderlo schiavo in terra straniera ed ecco che vedendoli dopo tanti anni egli li amava ancora smisuratamente ma li perseguitò e li tormentò per amore alla fine si allontanò da loro incapace di sopportare oltre i tormenti del proprio cuore si gettò sul suo letto e pianse poi asciugò le lacrime si presentò a loro raggiante e felice e disse fratelli sono giuseppe vostro fratello che leggano ancora di come fu felice il vecchio giacobbe quando apprese che il suo caro figliuolo era vivo e di come si precipitò in Egitto abbandonando la sua patria e morì in terra straniera pronunciando per i secoli dei secoli come suo testamento la sublime parola accolta in seguito nel suo mite dolce cuore per tutta la vita che dalla sua progenie da Giuda sarebbe derivata la grande speranza del mondo il conciliatore il salvatore del mondo padri e maestri perdonate e non addiratevi se come un bambino parlo di quello che voi conoscete da molto tempo e che potete insegnarmi con arte ed eloquenza cento volte superiori racconto tutto questo per l'esultanza che provo e perdonate le mie lacrime già che io amo questo libro che piangono anche loro i sacerdoti di Dio e vedranno che anche i cuori dei loro ascoltatori palpiteranno di rimando occorre solo un piccolo seme un minuscolo seme che lo gettino nell'anima di un uomo semplice ed esso non morirà ma vivrà nella sua anima per tutta la vita resterà nascosto in lui fra le tenebre fra il lezzo dei suoi peccati come un puntino luminoso come un sublime ammonimento e non occorrono molti insegnamenti e spiegazioni capirà tutto molto semplicemente pensate forse che i semplici non capiscano provate a leggere loro la storia commovente e toccante della bella Esther e dell'arrogante vasti o la storia miracolosa del profeta Giona nel ventre della balena non dimenticate nemmeno le parabole di nostro signore soprattutto dal Vangelo secondo Luca così ho fatto io e poi dagli atti degli apostoli la conversione di Saul quella valetta assolutamente assolutamente e infine dai eti minei almeno la vita di Alexei uomo di Dio e gioioso martire grande fra i grandi e la veggente di Dio la portatrice di Cristo Santa Maria egiziaca e penetrerete nei loro cuori con questi semplici racconti che i sacerdoti dedichino un'ora alla settimana a queste letture nonostante le loro scarne entrate una piccola ora e vedranno da soli che il popolo è caritatevole e riconoscente e che li compenserà cento volte di più ricordando la gentilezza del sacerdote e le sue commosse parole lo aiuteranno spontaneamente nei campi lo aiuteranno anche in casa e gli porteranno pure maggior rispetto di prima in questo modo anche le sue risorse si accresceranno è una cosa così semplice che a volte si teme di esprimerla a parole per paura di essere derisi eppure è così vera colui che non crede in Dio non crederà neppure nel popolo di Dio colui che crede nel popolo di Dio scorgerà anche la santità di lui seppure fino a quel momento non abbia affatto creduto in essa soltanto il popolo e la sua forza spirituale che avanza convertirà i nostri atei che si sono strappati dalla terra natia e a che cosa serve la parola di Cristo se non diamo l'esempio il popolo è perduto senza la parola di Dio già che la sua anima anela alla parola sua e alla percezione del bello quando ero giovane molto tempo fa sono passati quasi 40 anni padre Anfim ed io erravamo per tutta la Russia chiedendo la carità per il nostro monastero una notte pernottammo sulla riva di un grosso fiume navigabile insieme ai pescatori e accanto a noi si venne a sedere un ragazzo contadino l'aspetto dignitoso sui 18 anni a giudicare dall'apparenza il giorno dopo doveva correre alla sua destinazione per tirare un barcone di mercanti con l'alzaia notai che egli guardava dritto davanti a sé con lo sguardo limpido e commosso era una notte di luglio luminosa calma mite dall'ampio fiume saliva un vapore che ci rinfrescava di tanto in tanto udivamo lo sciacquettio dei pesciolini gli uccellini tacevano era tutto silenzioso e magnifico ogni cosa innalzava una preghiera a Dio noi due soltanto eravamo svegli il ragazzo e Dio e parlavamo della bellezza di tutto il mondo di Dio e del suo grande mistero ogni filo d'erba ogni moscerino ogni formica e ape dorata ogni creatura conosce il proprio cammino così bene dalla ciar sbalorditi pur non avendone consapevolezza essi testimoniano del mistero divino e lo realizzano incessantemente questo io dicevo e intanto vedevo che il cuore di quel giovane si infiammava mi disse che amava la foresta e gli uccelli del bosco era un buon uccellatore conosceva il fischio di tutti gli uccelli sapeva come attirare ciascuna specie disse pure che non c'era niente di più bello per lui che stare nella finestra ma del resto tutto era bello è vero gli risposio è tutto bello è magnifico perché tutto è verità guarda continuai il cavallo quell'animale sublime così vicino all'uomo oppure il bue che lo nutre e lavora per lui pensieroso e a capuchino guarda guarda le loro facce quanta amitezza quanta devozione verso l'uomo che pure spesso li picchia senza pietà quanta placidità quanta fiducia e quanta bellezza nelle loro facce quello che commuove è pensare che essi sono liberi da qualunque peccato già che tutto è perfetto tutto tranne l'uomo tutto è senza macchia e Cristo è con quelle creature da più tempo che con noi perché domandò il giovane Cristo è anche con loro è come potrebbe essere diversamente risposi io già che il verbo vale per tutti è tutta la creazione e tutte le creature fino anche a ogni singola fogliolina aspirano al verbo cantano la gloria di Dio piangono il Cristo compiendo inconsapevolmente il mistero della loro vita libera da peccato ecco gli dissi nella foresta ci aggira un terribile orso minaccioso e feroce ma lui non ne ha nessuna colpa e gli raccontai che una volta un orso si avvicinò a un grande santo in eremitaggio in una piccola cella nella foresta e il grande santo ebbe pietà di lui uscì dalla sua cella senza avere paura e gli dette un pezzo di pane va e che Cristo sia con te gli disse e la belva feroce si allontanò senza fargli del male il ragazzo si commosse per il fatto che l'orso si fosse allontanato senza fare alcun male e che Cristo era con lui ah com'è bello com'è bello e meraviglioso il mondo di Dio e ne stava seduto assorto nei suoi pensieri tranquillo e sereno vide che aveva capito e scivolò accanto a me nel suo sonno leggero e innocente che Dio benedica la giovinezza pregai anche per lui e poi andai a dormire Signore manda la pace e la luce al tuo popolo memoria dell'adolescenza e giovinezza dello stare Zosima quando era ancora nel mondo il duello trascorsi molto tempo quasi otto anni nel corpo dei cadetti a Pietroburgo e con la nuova educazione che ricevetti molte delle impressioni ricevute durante l'infanzia si offuscarono anche se non dimenticai nulla lì feci mie tante di quelle nuove abitudini e opinioni che mi trasformai in un essere quasi selvaggio crudele e sciocco appresi insieme al francese una parvenza di cortesia e buone maniere eppure noi tutti e io al pari degli altri consideravamo i soldati del corpo al nostro servizio alla stregua di bestie anzi io forse ero peggio degli altri dal momento che ero il più suggestionabile fra i miei compagni quando lasciamo la scuola con il grado di ufficiali eravamo pronti a versare il nostro sangue per l'onore del nostro reggimento ma del vero onore nessuno di noi aveva la minima cognizione e se anche qualcuno di noi lo avesse scoperto sarebbe stato il primo a riderne andavamo quasi fieri di ubriacarci attaccare briga e combinare bravate non dico che fossimo cattivi tutti quei giovani erano bravi ragazzi ma si comportavano in malo modo e io peggio degli altri il fatto è che ero entrato in possesso del mio capitale e per questo mi ero messo a vivere a mio piacimento assecondando la mia foga giovanile senza freno procedevo a ve le spiegate strano a dirsi ma anche in quel periodo leggevo persino con passione solo che non aprivo quasi mai la bibbia sebbene non me ne separassi mai me la portavo dovunque era sempre con me in realtà conservavo quel libro per quel giorno e quell'ora per quel mese e quell'anno senza saperlo io stesso erano passati quattro anni da quella vita da ufficiale quando finalmente capitai nella città di K dove allora era a distanza il nostro reggimento la società lì era numerosa variegata allegra ospitale e agiata venivo accolto dappertutto con molta cordialità già che avevo un carattere allegro e poi anche perché si sapeva che non ero povero e questo in società ha il suo peso quando ecco che si verificò una circostanza che segnò l'inizio di tutto feci amicizia con una fanciulla bellissima e molto giovane intelligente e rispettabile dal carattere piacevole e nobile figlia di genitori stimatissimi era gente che contava avevano ricchezza influenza potere e mi riservavano un'accoglienza cordiale e amichevole e quando ebbi l'impressione che la ragazza fosse ben disposta nei miei confronti il mio cuore fu infiammato dall'occasione che mi si presentava in seguito mi accorsi e compresi a fondo che forse io non l'amavo affatto con l'ardore che allora immaginavo ma stimavo soltanto la sua intelligenza e il suo carattere elevato come del resto non si poteva non fare il mio egoismo comunque mi impediva allora di farle una proposta di matrimonio mi appariva difficile terribile la prospettiva di rinunciare alla tentazione di una vita licenziosa libera da scapolo proprio nel fiorfiore della giovinezza e per di più con il denaro di cui disponevo feci comunque delle allusioni sebbene avessi rimandato per il momento qualunque mossa decisiva all'improvviso fui mandato in missione per due mesi in un altro distretto quando due mesi più tardi tornai in città veni a sapere che quella fanciulla si era già sposata con un ricco proprietario terriero dei dintorni un uomo parecchio più anziano di me ma pur sempre giovane che aveva conoscenze importanti nella capitale e nella migliore società che a me invece mancavano un uomo molto gentile e per di più di buona cultura cosa questa che a me difettava completamente fui così colpito da quella scoperta improvvisa che mi si annebbiò la mente il peggio fu apprendere solo allora che quel giovane proprietario era stato per molto tempo il suo fidanzato io stesso l'avevo incontrato molte volte in casa loro senza mai notare nulla accercato com'ero dalla mia presunzione fu proprio questa circostanza offendermi sopra ogni altra cosa come era stato possibile che quasi tutti lo sapessero tranne me fu invaso da un furore incontrollabile rosso di vergogna cercai di richiamare alla mente tutte le volte in cui ero stato lì lì per dichiararle il mio amore e dal momento che ella non mi aveva fermato né avvisato conclusi che si era presa gioco di me in seguito ovviamente ci pensai su e ricordai che ella non si era minimamente presa gioco di me al contrario lei stessa interrompeva sempre scherzosamente le conversazioni di quel genere e cambiava argomento ma allora ero incapace di rifletterci e ardevo dalla voglia di vendicarmi ricordo con stupore che quella sete di vendetta e quell'ira erano estremamente opprimenti e ripugnanti anche per me dal momento che con il carattere spensierato che avevo non ero capace di salvare rancore a lungo e quindi aizzavo me stesso in maniera artificiale tanto che finì per comportarmi in modo maleducato e assurdo ero in attesa del momento giusto quando un bel momento mi capitò l'occasione di offendere il mio rivale in un'importante riunione mondana per un motivo assolutamente insufficiente insignificante l'ho preso in giro per l'opinione che aveva espresso in merito a un avvenimento di gran rilevanza in quel momento eravamo nel 1826 e riuscii a metterlo alla berlina in modo molto abile e arguto a quanto mi dissero poi lo costrissi a una spiegazione e mi comportai con tanta villania che egli accettò la mia sfida nonostante l'enorme disparità esistente fra di noi io ero più giovane e non mi distinguevo per posizione o grado venne a sapere in seguito la fonte sicura che egli aveva accettato la mia sfida per una sorta di gelosia nei miei confronti anche in precedenza era stato un po' geloso di me per via di sua moglie che allora era la sua fidanzata egli aveva pensato che se la moglie fosse venuta a sapere che aveva tollerato un'offesa da parte mia senza risolversi a sfidarmi e duello ella avrebbe cominciato inconsciamente a provare disprezzo per lui e il suo amore avrebbe potuto vacillare mi procurai subito un padrino un compagno ad armi un tenente del mio stesso reggimento a quel tempo anche se i duelli venivano severamente puniti sfidarsi era una specie di moda tra i militari fino a che punto a che volte crescono e si radicano i pregiudizi si era alla fine di giugno e il nostro incontro era previsto per l'indomani mattina alle sette fuori città e proprio allora accade qualcosa di davvero fatale per la mia vita la sera prima tornando a casa di umore selvaggio e brutale mi addirai col mio attendente a fanasi e gli detti due ceffoni sulla faccia con tutta la forza che avevo tanto da farlo sanguinare era da poco tempo al mio servizio ed era già capitato altre volte che io lo picchiassi ma mai con una crudeltà così feroce e ci credereste miei cari non ho passati quarant'anni da allora ma ancora ricordo quell'episodio con un senso di vergogna e tormento mi coricai dormii circa tre ore mi svegliai che cominciava a far giorno mi alzai subito non avevo più voglia di dormire andai alla finestra la aprì dava sul giardino vidi sorzere il sole l'aria era tiepida meravigliosa gli uccellini avevano iniziato a cinquettare mi alzai subito non avevo più voglia di dormire andai alla finestra la aprì dava sul giardino vidi sorzere il sole l'aria era tiepida meravigliosa gli uccellini avevano iniziato a cinquettare che significa pensai ho nell'anima un senso di infamia e di viltà non sarà perché mi accingo a versare sangue no non credo che sia per quello non sarà perché ho paura della morte ho forse paura di essere ucciso no niente affatto neppure lontanamente ad un tratto indovinai di che si trattava i colpi inflitti ad afanasi mi ritornò alla mente la scena della sera prima e fu come se la rivivessi in quel momento egli era di fronte a me e io lo colpivo dritto in faccia mentre lui teneva le braccia giù a testa alta con gli occhi sbarrati come sull'attenti trassaliva ad ogni colpo ma non osava nemmeno alzare le braccia per proteggersi ecco fino a che punto si era ridotto un uomo un uomo che picchia un suo simile che cribine fu come se un ago appuntito mi trafiggesse da parte a parte l'anima rimasi come estordito mentre quel sole splendeva le foglionine luccicanti gioivano e quegli uccellini gli uccellini di Dio inneggiavano al Signore mi copri il volto con entrambe le mani crollai sul letto e scoppiai in un pianto dirotto e allora mi ricordai di mio fratello Markle e di quello che diceva ai servi mentre si trovava in punto di morte miei cari miei amati perché mi servite perché mi amate mi merito forse io che voi mi serviate e io me lo merito quella domanda mi valenò in mente e difatti che cosa mi rende meritevole che un altro uomo un uomo come me fatto a immagine e somiglianza di Dio mi serva era la prima volta nella mia vita che quella domanda si insinuava nel mio cervello mamma gocciolina del mio sangue in verità ciascuno è colpevole davanti a tutti per tutti solo che gli uomini non lo sanno ma se lo sapessero oggi stesso sarebbe il paradiso signore può essere falso anche questo mi domandavo piangendo in verità io potrei essere più colpevole di tutti e il peggiore degli uomini del mondo e tutto ad un tratto la verità mi si rivelò in piena luce che cosa mi accingevo a fare mi accingevo ad uccidere un uomo buono intelligente nobile e completamente innocente nei miei confronti e privando per sempre sua moglie della felicità avrei fatto soffrire e ucciso anche lei giacevo così nel mio letto bocconi con la faccia affondata nel cuscino e non mi accorsi affatto del passare del tempo all'improvviso entrò il mio compagno il tenente con le pistole era venuto a prendermi meno male che sei pronto è ora andiamo cominciai ad agitarmi mi confusi del tutto comunque uscimmo e salì in carrozza aspetta un minuto qui gli dissi poi faccio subito ho dimenticato il portamonete e salì di corsa da solo nel mio appartamento dritto nello stanzino di Afanasi Afanasi gli dissi ieri ti ho colpito due volte sulla faccia perdonami e gli trasalì come spaventato mentre io mi resi conto che era ancora poco troppo poco e così all'improvviso come mi trovavo con tanto di alta uniforme caddi ai suoi piedi e mi prostrai fino a terra davanti a lui perdonami gli dissi e gli rimase sbigottito vostra eccellenza signore padrone ma che cosa mi merito io forse e scoppiò a piangere anche lui come avevo fatto io prima si coprì il viso con entrambe le mani e si girò verso la finestra scosso dai singhiozzi io invece raggiunsi di corsa il mio compagno e saltai in carrozza hai mai visto un vincitore gli domandai eccolo qui davanti a te ero così esultante che non feci che ridere e parlare per tutto il tragitto parlavo non ricordo di che cosa ma parlavo quello mi guardava e commentò bene fratello bravo vedo che terrai alto all'onore dell'uniforme così arrivammo sul posto e loro erano già lì ci aspettavano ci sistemarono a dodici passi di distanza il primo colpo toccava a lui io gli stavo di fronte allegro a testa alta non battevo ciglio lo guardavo con affetto consapevole di quello che stavo facendo il suo colpo mi sfiorò appena la guancia e sibilò oltre il mio orecchio grazie a dio gridai non avete ucciso un essere umano poi afferrai la mia pistola mi voltai e la scaraventai in alto nel bosco quello è il suo posto gridai mi rivolsi poi al mio avversario e grezzo il signore perdonate uno stupido giovane come me che vi ha offeso solo per colpa sua e adesso vi ha costretto a sparargli contro sono dieci volte peggiore di voi anche di più forse riferite questo alla persona che vi è cara più di tutti al mondo avevo appena finito di pronunciare queste parole che tutti e tre si misero a gridare scusate disse il mio avversario persino adirato ma se non volevate battervi perché non mi avete lasciato in pace ieri ero ancora uno stupido ma oggi sono l'insavito gli risposi allegramente quanto a ieri vi credo ma è difficile concordare con voi riguardo ad oggi bravo gli gridai applaudendo anch'io sono d'accordo con voi me lo sono meritato allora egregio signore volete sparare oppure no non sparerò replicai ma se volete sparare un'altra volta voi fate pure anche se è meglio non sparare i padrini soprattutto il mio gridavano come puoi disonorare il reggimento in questo modo affrontare il nemico per chiedergli perdono se solo avessi immaginato una cosa simile allora mi misi di fronte a tutti loro senza più ridere signori miei suscita davvero tanta meraviglia ai nostri tempi incontrare un uomo che si penta da solo della sciocchezza che ha commesso e si dichiari colpevole in pubblico ma non sul terreno del duello gridò di nuovo il mio padrino ecco è questo il punto gli risposi proprio questo suscita meraviglia io avrei dovuto chiedere scusa non appena arrivato prima che egli sparasse per evitare che commettesse un grave peccato mortale ma noi stessi ci siamo imposti regole così vergognose che comportarmi così sarebbe stato quasi impossibile già che soltanto dopo aver subito il suo sparo dalla distanza di dodici passi le mie parole hanno potuto acquistare un qualche significato per lui se invece avessi parlato appena giunto qui si sarebbe detto semplicemente è un codardo la vista delle pistole lo ha spaventato a morte non si merita di essere ascoltato signori esclamai allora dal profondo del cuore guardate i doni di Dio che vi circondano il cielo sereno l'aria terza l'erba tenera gli uccellini la natura magnifica senza peccato mentre noi soltanto noi siamo stupidi e senza Dio e non capiamo che la vita è il paradiso già che dobbiamo solo comprendere questo perché esso si realizzi in tutta la sua bellezza e noi ci abbracceremo e piangeremo avrei voluto dire di più ma non ci riuscì mi mancava il fiato per la dolcezza e la sensazione di giovinezza che provavo e nel mio cuore c'era una felicità quale non avevo mai provato in vita mia tutto questo è ragionevole ed edificante mi disse il mio avversario comunque rimanete un tipo originale ridete pure di me gli dissi ridendo anch'io ma un giorno mi approverete sono pronto ad approvarvi anche adesso anzi se permettete vi tendo la mano perché credo che siate sincero no adesso no in seguito quando sarò diventato migliore e mi sarò meritato il vostro rispetto allora se mi darete la mano compirete un'azione giusta torniamo a casa il mio padrino non fece che ingiuriarmi per tutta la strada mentre io lo baciavo tutti i miei compagni vennero ben presto a sapere dell'accaduto e si riunirono per sottopormi a giudizio quel giorno stesso ha disonorato la divisa che dia le dimissioni dicevano alcuni altri invece presero le mie difese ha affrontato il primo colpo dell'avversario però sì ma ha avuto paura degli altri colpi e ha chiesto perdono sul terreno del duello se avesse avuto paura dei colpi dell'avversario argomentavano ai miei difensori avrebbe sparato lui prima di chiedere perdono mentre ha gettata via la pistola nel bosco che era ancora carica no c'è qualcos'altro da considerare in questo caso qualcosa di insolito io ascoltavo e mi divertivo a guardarli amici e compagni miei carissimi dissi loro non preoccupatevi che io dia le dimissioni perché l'ho già fatto le ho già consegnate in cancelleria questa mattina non appena saranno state accettate andrò subito al monastero già che per questo ho rassegnato le dimissioni quando ebbero udito la notizia scoppiarono a ridere all'unisono ci avresti dovuto informare subito adesso tutto si spiega non possiamo processare un monaco dicevano mentre non riuscivano a trattenersi dalle risa ma non lo facevano per scherno bensì con dolcezza allegramente anzi presero tutti a volermi bene all'improvviso persino i miei detrattori più accesi e in seguito per tutto il mese che seguì fino a quando non furono accolte le mie dimissioni si può dire che mi portarono in palmo di mano ah il nostro monaco mi dicevano e tutti avevano per me qualche parola gentile volevano dissuadermi perfino con aria di commiserazione che cosa ti stai facendo con le tue stesse mani no dicevano ora è un uomo coraggioso ha affrontato il colpo dell'avversario e avrebbe anche potuto sparare con la sua pistola ma la notte prima aveva sognato di diventare un monaco ecco perché non ha sparato più o meno la stessa cosa avveniva presso gli ambienti mondani fino a quel momento ero stato accolto con cordialità ma non ero mai stato oggetto di speciali attenzioni invece ora tutti venivano per conoscermi e mi invitavano a casa loro mi prendevano in giro certo ma mi volevano bene devo far notare che sebbene tutti parlassero apertamente del duello le autorità avevano chiuso un occhio giacché il mio avversario era parente stretto del nostro generale e dal momento che la faccenda si era conclusa senza spargimento di sangue e quasi con uno scherzo e io avevo pure rassegnato le dimissioni presero davvero l'intera faccenda per scherzo intanto io avevo cominciato a parlare pubblicamente senza alcuna paura incurante di essere deriso giacché la loro derisione non era cattiva ma in buona fede quelle discussioni avvenivano prevalentemente di sera alle riunioni delle signore le donne in particolare si erano appassionate ad ascoltarmi e costringevano anche gli uomini a farlo ma com'è possibile che io sia colpevole per tutti mi ridevano in faccia per esempio sono forse colpevole anche per voi ma come potreste riconoscerlo rispondevo io dal momento che tutto il mondo ha imboccato una strada diversa e dal momento che noi consideriamo verità la menzogna e desigiamo anche dagli altri la stessa menzogna prendete me soltanto una volta nella vita io mi sono comportato con sincerità e vedete che cos'è avvenuto ai vostri occhi sono diventato un folle stravagante anche se mi volete bene tuttavia mi prendete in giro ma come non volere bene a uno come voi disse ad alta voce la padrona di casa ridendo c'era molta gente in casa sua quel giorno ad un tratto si alzò dal gruppo delle signore quella stessa personcina per la quale avevo sfidato il mio avversario a duello e che per tanto tempo avevo considerato la mia fidanzata non avevo nemmeno notato che era intervenuta anche lei a quella riunione si alzò si avvicinò a me e mi tese la mano permettete che vi benedica permettete che vi dica che sono la prima a non ridere di voi anzi vi ringrazio con le lacrime agli occhi e vi dichiaro la mia stima per il vostro gesto dell'altro giorno in quel momento si avvicinò pure suo marito e poi tutti all'improvviso si misero a tendermi la mano e a momenti mi baciavano ero felice ma ad un tratto la mia attenzione fu attirata da un gentiluomo un signore di mezza età che pure si era avvicinato a me e che conoscevo soltanto di nome ma che non mi era mai stato presentato né mi aveva mai rivolto la parola prima di quella sera il visitatore misterioso questi lavorava nella nostra città già da molto tempo occupava un posto di rilievo era un uomo stimato da tutti facoltoso con la fama di benefattore aveva devoluto un capitale considerevole in beneficenza per un ospizio e per un istituto di orfanelli e oltre a questo compieva molte buone azioni in segreto senza tanta pubblicità come si venne a sapere dopo la sua morte era sui 50 anni e aveva un aspetto severo era un uomo di poche parole era sposato da una decina d'anni non di più con una donna ancora giovane dalla quale aveva avuto tre figli allora in tenera età ed ecco che la sera successiva ero in casa quando all'improvviso si aprì la porta ed entrò proprio quel signore devo dire che allora non vivevo più nell'appartamento di prima infatti non appena rassegnate le dimissioni mi ero trasferito in un altro appartamento preso in affitto da una donna anziana vedova di un impiegato la sua serva si occupava anche delle mie faccende domestiche anche il mio trasferimento nell'altro appartamento fu dovuto esclusivamente al fatto che a ritorno dal duello avevo subito rimandato a fanasi e a reggimento tanta era la vergogna che provavo a guardarlo in faccia popolazione che avevo compiuto a tal punto l'inesperto uomo di mondo è incline a provare vergogna persino per una sua giustissima azione io mi disse il signore entrato in casa mia ho avuto modo di ascoltarvi in parecchie occasioni in casa di diverse persone e sempre con grande interesse infine ho voluto conoscervi di persona per approfondire la conversazione con voi potreste accordarmi un simile favore e grezzo signore certo che posso e con grandissimo piacere lo considero un onore speciale risposi io ma ero persino spaventato tanto quell'uomo mi aveva colpito sin dalla prima volta che lo avevo visto e infatti fino ad allora la gente mi aveva ascoltato si era interessata a me ma mai nessuno mi si era rivolto con un'aria così seria e severa e quell'uomo per di più era venuto a trovarmi in casa di persona si sedette vedo una gran forza di carattere in voi proseguì già che non avete avuto paura di mettervi al servizio della verità sebbene così facendo abbiate rischiato di incorrere nel disprezzo generale a causa della vostra verità le vostre lodi sono eccessive forse dissi no non sono eccessive ribette lui credetemi compiere un gesto simile è molto più arduo di quello che crediate è stato proprio questo a colpirmi proseguì e per questo sono venuto da voi descrivetemi se non vi disturba questa mia curiosità forse così inopportuna che cosa avete provato nel momento in cui durante il duello vi siete deciso a chiedere perdono siete in grado di ricordarlo non crediate che la mia sia una domanda frivola al contrario ponendovi tale domanda perseguo un mio fine segreto che vi rivelerò forse in seguito se Dio ci concederà di avvicinarci ancora di più mentre egli parlava io lo guardavo dritto in faccia e all'improvviso sentì di nutrire per lui una fiducia assoluta e anche una curiosità inconsueta da parte mia già che avvertivo che nella sua anima si celava una sorta di speciale segreto voi mi domandate che cosa ho sentito nel momento in cui ho chiesto perdono al mio avversario gli rispose ma è meglio che vi racconti tutto dall'inizio cose che non ho ancora fatto con nessuno prima di ora e gli raccontai tutto ciò che era avvenuto con Afanasi e di come mi fossi prostrato ai suoi piedi da questo potete rendervi conto da solo conclusi che al momento del duello tutto mi è stato più facile già che il processo aveva già avuto inizio a casa e una volta imboccata quella strada non mi è stato difficile proseguire anzi per me è stato fonte di gioia e serenità mentre mi ascoltava aveva uno sguardo così buono tutto questo è estremamente interessante tornerò ancora ancora molte volte a trovarvi mi disse e da quel giorno cominciò a venire quasi ogni sera e saremmo diventati molto amici se solo anche lui avesse parlato di sé invece non raccontava quasi nulla di sé non faceva che chiedere notizie di me nonostante questo presi a volergli molto bene e gli parlavo con grande franchezza dei miei sentimenti da che pensavo a che mi serve conoscere i suoi segreti se anche così mi rendo conto che è un uomo giusto inoltre egli era un uomo così serio e più anziano di me eppure era lui a venire a casa mia da un giovanotto come me trattandomi da pari a pari imparai molte cose utili da lui già che era un uomo di grande intelligenza è da molto tempo che penso che la vita sia un paradiso mi disse inaspettatamente un giorno e poi aggiunse non faccio che pensare a questo mi guardò e sorrise ne sono più convinto di voi e un giorno vi dirò il perché io lo ascoltavo e pensavo evidentemente vuole rivelarmi qualcosa il paradiso si cela dentro ognuno di noi anche in me si cela in questo momento se solo volessi domani stesso il paradiso comincerebbe davvero anche per me e per tutta la vita lo guardai e vidi che mi parlava con grande commozione e con aria di mistero come se volessi interrogarmi e a proposito del fatto che ogni uomo è colpevole per tutti e per tutto al di là dei propri peccati avete perfettamente ragione ed è sorprendente che abbiate abbracciato di colpo tale pensiero in tutta la sua estensione e in verità quando gli uomini avranno compreso questo per loro comincerà il regno dei cieli non nei sogni ma nella realtà ma quando gli gridai addolorato quando avverrà questo e avverrà mai non è forse solo un sogno allora voi non ci credete lo professate senza crederci voi stesso sappiate che questo sogno come lo chiamate voi si realizzerà sicuramente credeteci ma non adesso giacché ogni processo la sua legge è una questione di natura spirituale psicologica per rifare il mondo da capo occorre che gli uomini stessi imbocchino psicologicamente un'altra strada fin tanto che ciascun uomo non sarà diventato veramente fratello del suo prossimo la fratellanza non avrà inizio nessuna scienza e nessun interesse comune potrà indurre gli uomini a dividere equamente proprietà e diritti qualunque cosa sarà sempre troppo poco per ognuno e tutti si lamenteranno si invideranno si ammazzeranno l'un l'altro voi mi domandate quando avverrà tutto questo avverrà ma prima deve compiersi il periodo dell'isolamento umano che cosa sarebbe questo isolamento domandai io quello che domina attualmente in ogni dove soprattutto nel nostro secolo ma che non è ancora concluso non è ancora giunto al termine già che ognuno tenta di separare al massimo la propria individualità vuole sperimentare in se stesso la pienezza della vita ma al contrario tutti i suoi sforzi non raggiungono la pienezza della vita bensì l'autodistruzione già che invece di realizzare pienamente il proprio essere l'uomo si chiude nell'isolamento più completo già che tutta l'umanità nel nostro secolo è sregolata in singole unità ognuno si isola nella propria tana si allontana dagli altri e si nasconde e nasconde quello che possiede e finisce per alienare se stesso dagli uomini ed alienare gli uomini da sé accumula ricchezza in solitudine e pensa quanto sono forte adesso quanto sono al sicuro e non sa pazzo com'è che quanto più accumula tanto più affonda nell'impotenza autodistruttiva c'è che abituato a contare solo su se stesso e a separarsi dal tutto come singola unità ha addestrato la propria anima a non credere nell'aiuto degli altri a non credere negli uomini e nell'umanità e gli trema soltanto al pensiero di poter perdere il proprio denaro e i privilegi che si è conquistato dappertutto oggigiorno la mente umana ha preso ad ignorare con aria di scherno che la vera sicurezza dell'individuo non risiede nello sforzo isolato e individuale ma nell'universale solidarietà umana ma sarà inevitabile che venga la fine anche di questo terribile isolamento e che tutti insieme capiscano di essersi separati in maniera innaturale l'uno dall'altro sarà lo spirito del tempo e gli uomini si meraviglieranno di essere rimasti così a lungo fra le tenebre senza vedere la luce allora nel cielo si vedrà il segno del figlio dell'uomo ma fino a quel giorno dobbiamo proteggere il vessillo l'uomo anche da solo deve dare l'esempio e innalzare l'anima dall'isolamento a un gesto di comunione fraterna anche se dovrà passare per un folle stravagante e tutto per non permettere che la grande idea muoia ecco le nostre serate passavano una dopo l'altra in queste infuocate ed esaltanti discussioni trascurai persino la vita sociale e cominciai a farmi vedere sempre più raramente nei salotti del resto anche la mia moda stava passando non dico questo a modi critica già che continuavano a volermi bene e a trattarmi con entusiasmo ma bisogna pur riconoscere che la moda aveva un potere non indifferente in società cominciai a guardare al mio visitatore misterioso con ammirazione già che oltre a godere della sua intelligenza mi accorgevo che nutriva in se stesso un qualche progetto e si preparava a un grande gesto almeno così mi pareva forse gli era molto gradito che non manifestassi curiosità per il suo segreto e non facessi domande né alludessi in alcun modo all'argomento ma finalmente notai che egli cominciava a spasimare dal desiderio di dirmi qualcosa la cosa era diventata evidente a circa un mese dalla sua prima visita lo sapevate mi domandò una volta che in città sono molto curiosi sul conto di noi due e si meravigliano del fatto che io venga a trovarvi così spesso che facciano pure già che ben presto sarà tutto spiegato alle volte un'eccezionale agitazione lo assaliva e in quelle occasioni egli quasi sempre si alzava di scatto e se ne andava altre volte ancora mi guardava a lungo e con aria scrutatrice mentre io pensavo adesso mi dirà qualcosa e invece lui si fermava di colpo e si metteva a parlare di qualcosa di normale e secondario cominciò pure a lamentarsi dai suoi frequenti mal di testa una volta del tutto inaspettatamente dopo un suo discorso lungo e infervorato lo vedi impallidire il viso gli si contrasse mentre fissava lo sguardo su di me che cosa avete gli domandai vi sentite male si era appena lamentato di avere mal di testa io sapete io ho ucciso una persona lo disse con il sorriso sulle labbra ma pallido come un lenzuolo perché sorride questa domanda penetrò nel mio cuore prima che riuscissi a pensare a qualcos'altro impallidì anch'io che cosa state dicendo vedete rispose con un pallido sorriso quanto mi è costato caro dire la prima parola ma adesso l'ho detta e mi sembra di avere fatto il primo passo proseguirò per molto tempo non riuscì a credergli anzi non gli credetti tutto in una volta ma solo dopo che per tre giorni di seguito venne da me e mi raccontò ogni cosa nei dettagli credevo che fosse impazzito ma finì con il convincermi senza ombra di dubbio e con mio grande dolore e stupore egli aveva commesso un delitto grave e terribile 14 anni addietro aveva ucciso una ricca signora giovane e bella vedova di un proprietario terriero che possedeva una casa nella nostra città per i periodi in cui vi risiedeva egli si era follemente innamorato di lei le aveva dichiarato il suo amore e voleva persuaderla a sposarlo ma ella aveva già donato il suo cuore a un altro un militare di nobili natali e di alto rango che in quel periodo era impegnato in una campagna ma il cui arrivo e la aspettava al più presto ella aveva respinto la sua offerta e l'aveva pregato di non farle più visita egli aveva cessato di recarsi da lei ma conoscendo la disposizione della casa di lei si introdusse in casa sua a nottetempo passando dal giardino e poi attraverso il tetto con audacia inaudita a rischio di essere scoperto ma come spesso accade i crimini commessi con audacia straordinaria sono quelli che riescono più di tutti gli altri entrato nel solaio della casa attraverso un abbaino egli scese per la scaletta sapendo che la porta che si trovava ai suoi piedi non sempre veniva chiusa a chiave per negligenza della servitù contava fosse così anche quella volta e di fatti la trovò aperta giunto alle camere egli nell'oscurità giunse la camera da letto di lei dove ordeva una lampada come a farlo apposta entrambe le sue cameriere personali erano andate alla chitichella a una festa di onomastico da alcuni vicini nella stessa strada senza chiedere il permesso alla padrona gli altri servi dormivano nelle stanze della servitù o in cucina al piano di sotto alla vista della dormiente si accese in lui la passione ma poi un impeto di vendetta e gelosia gli invase il cuore come ubriaco fuori di sé si avvicinò a lei e le conficò un pugnale dritto nel cuore la donna non ebbe nemmeno il tempo di emettere un gemito poi con calcolo infernale e delittuoso fece in modo che i sospetti cadessero sui servi non si fece scrupolo di prendere il portamonete aprì il comò con le chiavi che aveva preso da sotto il cuscino e impossessarsi di alcuni suoi oggetti proprio come avrebbe fatto un servo ignorante lasciando cioè documenti preziosi prendendo solo il denaro e alcuni degli oggetti d'oro più appariscenti ma trascurando piccole cose di valore dieci volte superiore prese anche qualche ricordo per sé ma di questo parleremo in seguito quando ebbe eseguito tutto questo uscì nello stesso modo in cui era entrato né il giorno successivo quando scoppiò il trembusto né mai in tutta la sua vita qualcuno sospettò che gli potesse essere il vero colpevole nessuno sapeva niente neanche del suo amore per lei se che egli era sempre stato taciturno e poco socievole per carattere e non aveva un amico con cui confidarsi lo consideravano solo un amico della vittima e neanche dei più intimi visto che nelle ultime due settimane non ne aveva mai fatto visita sospettarono immediatamente del servo della gleba piotr e tutte le circostanze confermarono quel sospetto già che quel servo sapeva e la defunta non ne faceva mistero che ella aveva intenzione di mandarlo a fare il soldato inserendolo nel numero delle reclute che doveva scegliere fra i suoi contadini dal momento che egli era senza famiglia e manteneva una pessima condotta all'osteria lo avevano sentito ubriaco e pieno di rabbia minacciare la padrona di morte due giorni prima della morte di lei era fuggito e si era rifugiato in qualche posto in città nessuno sapeva dove il giorno dopo l'assassinio lo avevano trovato per strada alle porte della città ubriaco fradicio con il coltello in tasca e per di più con il palmo della mano destra sporco di sangue per chissà quale motivo egli dichiarò di aver perso sangue dal naso ma non gli credettero le cameriere confessarono di essere andate alla festa e che la porta d'ingresso che dava sulla strada era rimasta aperta sino al loro ritorno emerse una serie di altri simili indizi a causa dei quali fu incolpato il servo innocente lo arrestarono e avviarono l'istruttoria ma una settimana dopo l'imputato contrasse la febbre e morì all'ospedale privo di conoscenza così si era conclusa la faccenda ci si rimise alla volontà di Dio e tutti sia i giudici sia le autorità nonché la comunità tutta rimasero nella convinzione che il crimine fosse stato commesso da nessun altro che dal servo deceduto dopodiché ebbe inizio il castigo il visitatore segreto che adesso era diventato mio amico mi disse che agli inizi non era stato affatto tormentato dai rimorsi di coscienza si era tormentato a lungo ma non per quello solo per il dispiacere di aver ucciso la donna amata per il fatto che ella non ci fosse più perché uccidendo lei aveva ucciso il suo amore mentre il fuoco della passione gli bruciava ancora nelle vene ma allora non pensava minimamente di aver versato il sangue di un innocente di aver ucciso un essere umano il pensiero che la sua vittima avrebbe potuto diventare la moglie di un altro gli sembrava intollerabile per questo nella sua coscienza rimase a lungo convinto che non avrebbe potuto agire diversamente dalle prime si preoccupò dell'arresto del servo ma la malattia improvvisa e poi la morte dell'imputato fecero sì che si rimettesse l'animo in pace dal momento che quello secondo ogni evidenza così ragionava lui allora non era morto in seguito all'arresto o allo spavento ma a causa di una malattia da raffreddamento contratta proprio nei giorni della sua fuga quando ubriaco fradicio era rimasto una notte intera sdraiato sul terreno umido il denaro gli oggetti rubati lo turbavano poco dal momento che a quanto giudicava lui il furto era stato perpetrato non a scopo di lucro ma per stornare i sospetti del resto la somma rubata era insignificante ed egli comunque la devolse interamente aggiungendoci del suo a favore dell'ospizio che era stato istituito nella nostra città fece questo allo scopo di mettersi l'anima in pace per quanto riguardava il furto e quel che è degno di nota per molto tempo egli riuscì davvero a vivere in pace me lo diceva lui stesso si tuffò allora in un'intensa attività lavorativa chiese che gli venisse affidato un incarico difficile e complesso che lo tenne impegnato per due anni essendo un uomo dalla volontà ferrea quasi quasi dimenticò il passato e quando gli riaffiorava alla mente cercava di ricacciarlo si impegnò nella beneficenza fondò e finanziò molte istituzioni benefiche nella nostra città si fece notare anche nelle capitali fu eletto membro di associazioni filantropiche a Mosca e Pietroburgo ma alla fine cominciò con tormento a meditare sul passato e la sofferenza diventò a poco a poco superiore alle sue forze in seguito fu attratto da una fanciulla bella e intelligente la sposò presto illudendosi di ricacciare con il matrimonio la sua angoscia solitaria sperava che dando una nuova svolta alla propria vita e adempiendo scrupolosamente al proprio dovere nei confronti della moglie e dei figli avrebbe allontanato per sempre i vecchi ricordi ma accadde esattamente il contrario sin dal primo mese un pensiero incessante cominciò a turbarlo ecco mia moglie mi ama ma mi amerebbe ancora se sapesse quando ella fu incinta e ne dette notizie al marito egli ne rimase subito turbato do la vita quando io stesso l'ho tolta arrivarono i figli come oso amarli istruirli educarli come farò a parlar loro della virtù quando io stesso ho versato sangue umano intanto quegli stupendi bambini crescevano gli veniva voglia di accarezzarli non riesco a guardare i loro visetti innocenti luminosi non ne sono degno alla fine è presa ad apparirgli minaccioso ed amaro il sangue della vittima la giovane vita da lui soppressa il sangue che gridava vendetta cominciò ad avere incubi spaventosi ma era un uomo del cuore forte e sopportò a lungo questo tormento espirò tutto con questo mio tormento segreto ma anche quella speranza si rivelò infondata più andava avanti e più intensa si faceva la sofferenza in società avevano preso a stimarlo per via della sua attività benefica sebbene temessero il suo carattere severo e cupo ma quanto più lo stimavano tanto più quella stima gli diveniva insopportabile mi confessò che aveva persino pensato al suicidio ma cominciò ad essere perseguitato da un altro pensiero un pensiero che sulle prime gli era sembrato impossibile e pazzesco ma che alla fine aveva così attecchito nel suo cuore che non riusciva più a sradicarlo ecco in che cosa consisteva alzarsi farsi avanti tra la gente e confessare davanti a tutti di aver ammazzato una persona erano tre anni che questo sogno lo accompagnava gli si affacciava alla mente in forme diverse alla fine si convinse con tutto il cuore che se avesse confessato il suo crimine avrebbe guarito la sua anima e avrebbe ottenuto la pace per sempre ma questa idea gli riempiva il cuore di orrore come l'avrebbe messa in atto e poi all'improvviso era avvenuto l'episodio del mio duello guardando voi mi sono deciso io lo guardai è mai possibile esclamai battendo le mani che un episodio insignificante come il mio abbia potuto generare in voi una simile risoluzione la mia risoluzione è nata tre anni fa mi replicò il vostro episodio mi ha dato soltanto la spinta necessaria guardando voi ho biasimato me stesso e vi ho invidiato mi disse persino con durezza ma non vi crederanno gli feci notare sono passati quattordici anni ho delle prove decisive ve le mostrerò allora scoppiai a piangere lo baciai ditemi solo una cosa solo una cosa mi invocò come se tutto dipendesse da me mia moglie i miei figli mia moglie forse morirà di crepacuore e i miei figli ammesso che non perdano il rango e le proprietà saranno pur sempre figli di un ergastolano e per sempre che ricordo che ricordo lascerò nei loro cuori rimasi in silenzio e separarmi da loro lasciarli per sempre perché sarebbe per sempre per sempre io stavo seduto e recitavo una preghiera tra me e me finalmente mi alzai ero atterrito e allora mi domandò guardandomi andate gli dissi proclamatelo al mondo tutto passa solo la verità rimane i figli capiranno quando saranno grandi quanta magnanimità si racchiudeva nella vostra grande decisione quel giorno si congedò da me come se avesse preso una decisione tuttavia per due settimane ancora egli venne da me una sera dopo l'altra si andava preparando ancora incapace di decidersi egli faceva soffrire il mio cuore un giorno venne risoluto da me e mi disse commosso lo so che sarà il paradiso per me nel momento stesso in cui lo dichiarerò per 14 anni ho vissuto all'inferno voglio soffrire accetterò la sofferenza e comincerò a vivere si può attraversare il mondo facendo del male ma indietro non si torna adesso non ho il coraggio di amare non solo il mio prossimo ma neppure i miei figli Dio mio i miei figli forse capiranno quanto mi è costata la sofferenza e non mi giudicheranno Dio non è nella forza ma nella verità tutti comprenderanno il vostro gesto gli dissi se non sarà adesso sarà in seguito già che avrete perseguito la verità la verità superiore non quella terrena e se ne andò come consolato ma il giorno dopo comparve un'altra volta stioso pallido e mi disse con ironia ogni volta che vengo da voi voi mi guardate con curiosità come a dire non ha ancora fatto la sua dichiarazione aspettate non mi disprezzate troppo non è una cosa tanto semplice come sembra a voi e forse non la farò affatto non andrete a denunciarmi vero? io invece non osavo nemmeno alzare lo sguardo su di lui altro che guardarlo con curiosità indiscreta soffrivo sino a starne male e la mia anima era grondante di lacrime persi persino il sonno ho appena lasciato mia moglie continuò lui sapete che cos'è una moglie? i bambini mentre me ne andavo gridavano addio papà tornate presto a leggerci il giornaletto dei bimbi non potete capirlo la disgrazia di un altro non riesci a capirla gli occhi gli brillavano le labbra gli fremevano all'improvviso sferrò un pugno sul tavolo tanto che tutti gli oggetti che vi erano sopra sobbalzarono era la prima volta che faceva un gesto del genere era una persona così pacata ma sono tenuto a farlo gridò sono obbligato a farlo nessuno è stato condannato nessuno è ai lavori forzati al posto mio quel servo è morto di malattia e per il sangue versato sono stato punito con i tormenti e poi non mi crederanno non crederanno nemmeno a una delle mie prove devo dunque dichiararlo devo forse sono disposto a patire i tormenti per tutta la vita per il sangue versato a patto di non colpire mia moglie e i miei figli sarebbe giusto rovinarli insieme a me non stiamo commettendo un errore qual è la verità in questo caso e la gente riconoscerà la verità la apprezzerà la rispetterà dio mio pensai tra me e me in un momento simile pensa al rispetto della gente e provai tanta compassione per lui in quel momento che avrai volentieri condiviso il suo fardello se solo avessi potuto alleviarlo lo guardai era come fuori di sé ero terrorizzato comprendevo ora non solo con il cervello ma con tutta l'anima quanto gli costasse una simile decisione decidete il mio destino gridò un'altra volta andate e dichiarate la vostra colpa gli sussurrai la voce mi mancava ma le mie parole risuonarono distintamente presi dal tavolo il vangelo nella traduzione russa e gli mostrai il vangelo secondo giovanni capitolo 12 versetto 24 in verità in verità vi dico se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane infecondo se invece muore produce molto frutto avevo letto quel versetto poco prima del suo arrivo e gli lesse è vero mi disse con un amaro sorriso sì in quei libri trovi cose terrificanti è facile ficcarle sotto il naso a qualcuno ma chi le ha scritte non sono stati gli uomini lo spirito santo le ha scritte gli risposi facile parlare per voi sorrisi ancora una volta ma ormai con astio io ripresi il libro aprì un'altra pagina e gli mostrai la lettera agli ebrei capitolo 10 versetto 31 e gli lesse è cosa terribile cadere nelle mani del dio vivente dopo aver letto scaraventò via il libro si mise persino a tremare un versetto terribile commentò niente da dire ottima scelta si alzò dal tavolo beh disse poi addio forse non verrò più ci rivedremo in paradiso vuol dire che sono 14 anni che sono caduto nelle mani del dio vivente ecco come definire questi 14 anni domani supplicherò che quelle mani mi lasciano andare avrei voluto abbracciarlo e baciarlo ma non ebbe il coraggio il suo viso era così contratto il suo sguardo così oppresso e ne andò signore pensai che cosa dovrà affrontare quell'uomo cadde in ginocchio davanti all'icona e scoppiai a piangere supplicando la santissima madre di dio la nostra solerte soccorritrice e ausiliatrice era passata mezz'ora circa dal momento in cui mi ero messo a pregare fra le lacrime era già notte inoltrata le dodici circa a un tratto vidi che si apriva la porta ed egli entrava un'altra volta rimasi sbigottito dove siete stato gli domandai io disse credo di aver dimenticato qualcosa il fazzoletto mi sembra beh se non ho dimenticato nulla fatemi sedere ancora un po' si sedette su una sedia io gli stavo accanto in piedi sedetevi anche voi mi disse mi sedetti rimanemmo immobili per un paio di minuti lui mi guardava fisso e ad un tratto sorrise lo ricordai questo poi si alzò mi abbracciò con calore e mi baciò ricordati disse di come sono tornato da te una seconda volta ricordatelo hai capito era la prima volta che mi dava del tu e andò via sarà domani pensai e fu proprio così io quella sera non sapevo che l'indomani sarebbe stato il suo compleanno non era uscito di casa in quegli ultimi giorni e quindi non avevo avuto modo di venirlo a sapere il giorno del suo compleanno ogni anno a casa sua si teneva un grande ricevimento al quale partecipava mezza città anche quell'anno ci andarono tutti ed ecco che dopo il pranzo egli si fece avanti al centro della sala con un documento fra le mani una dichiarazione formale per i suoi superiori e dal momento che i suoi superiori erano presenti egli lesse quella dichiarazione ad alta voce davanti a tutti i convenuti essa conteneva la descrizione del delitto in tutti i dettagli mi separo dalla compagine umana perché sono un mostro dio mi ha visitato concludeva il documento e io voglio soffrire poi prese e poggiò sul tavolo tutti gli oggetti con i quali intendeva dimostrare la propria colpevolezza e che aveva conservato per quattordici anni gli oggetti d'oro della defunta da lui rubati con l'intento di stornare i sospetti da sé il medaglione e la croce strappati dal collo di lei il medaglione conteneva il ritratto del suo fidanzato un libretto di appunti e infine due lettere la lettera del suo fidanzato nella quale la informava del suo prossimo ritorno e la risposta da lei cominciata ma non finita che aveva lasciato sul tavolo per spedirla il giorno dopo aveva preso per sé entrambe quelle lettere a che scopo a che scopo conservarle per quattordici anni invece di distruggerle in quanto prove ed ecco che cosa successe tutti rimasero sbigottiti e inorriditi ma nessuno voleva credergli tutti lo avevano ascoltato con eccezionale interesse ma come se si fosse trattato di un malato qualche giorno più tardi in ogni caso si era già deciso e stabilito che il disgraziato era uscito di senno i superiori e le autorità giudiziarie non poterono fare a meno di avviare un'inchiesta ma si arenarono anche loro sebbene gli oggetti prodotti e le lettere costringessero a una riflessione anche in quella sede si decise che seppure quei documenti si fossero rivelati autentici non si poteva emettere una sentenza definitiva esclusivamente sulle base di quei documenti poteva essere stata la signora stessa a consegnarli quegli oggetti come ad un amico perché li tenesse in custodia in seguito sentì che l'autenticità di quegli oggetti fu verificata grazie alla testimonianza di molti amici e parenti della vittima e che non sussistevano dubbi a questo proposito comunque la faccenda non era destinata a concludersi cinque giorni più tardi tutti vennero a sapere che il martire si era ammalato e che si temeva per la sua vita di che malattia si trattasse non saprei precisarlo si diceva che fosse una disfunzione del battito cardiaco ma si venne a sapere che dietro insistenza della moglie i medici chiamati a consulto si pronunciarono anche sulle condizioni mentali del malato e giunsero alla conclusione che il suo fosse un caso di insanità mentale io non mi lasciai sfuggire nulla anche se vennero a farmi molte domande ma quando andai a trovarlo mi impedirono a lungo di vederlo soprattutto sua moglie siete stato voi a sconvolgerlo anche prima era cupo di carattere ma in quest'ultimo anno hanno tutti notato un'insolita agitazione in lui e uno strano comportamento da parte sua e siete stato proprio voi a rovinarlo le vostre prediche lo hanno ridotto così l'ultimo mese non ha fatto altro che stare con voi in realtà non solo sua moglie ma la città intera si scagliò contro di me accusandomi è solo colpa vostra io tacevo e gioivo in cuor mio già che scorgevo in quegli avvenimenti la misericordia inconfondibile di Dio verso l'uomo che si era ribellato a se stesso e si era punito ma certo non potevo credere alla sua follia finalmente mi permissero di vederlo aveva insistito gli stesso per potermi dire addio quando entrai mi accorsi che non i giorni ma le ore sue erano contate era debole giallognolo le mani gli tremavano gli mancava il respiro ma aveva uno sguardo commosso e gioioso è fatta mi disse è da molto che desidero vederti perché non sei venuto non gli dissi che non mi avevano permesso di vederlo Dio ha avuto pietà di me e ora mi chiama presso di sé so di essere prossimo alla morte ma sono felice e in pace con me stesso per la prima volta dopo tanti anni non appena ho compiuto quello che dovevo ho sentito subito il paradiso nel mio cuore adesso ho il coraggio di amare i miei figli e di baciarli non mi credono e nessuno mi ha creduto né mia moglie né i miei giudici non ci crederanno mai neanche i miei figli scorgo in questo la misericordia divina nei confronti dei miei figli quando sarò morto anche il mio nome rimarrà senza macchia per loro adesso sento l'avvicinarsi di Dio il mio cuore gioisce come se fossi in paradiso ho compiuto il mio dovere non riusciva a parlare ansimava mi stringeva forte la mano e mi fissava con il suo sguardo ardente non parlammo a lungo sua moglie ci controllava di continuo tuttavia ebbe il tempo di sussurrarmi ti ricordi quando sono tornato da te la seconda volta ti ordinai persino di tenerlo a mente ti ricordi sai perché ero tornato ero venuto ad ucciderti trassadì quando uscì di casa tua vagai al buio per le strade lottando con me stesso e all'improvviso provai un tale odio nei tuoi confronti che il mio cuore a momenti cedette adesso egli è l'unico che mi lega è il mio unico giudice e non posso più tirarmi indietro dalla punizione di domani e che egli sa tutto non che temessi la tua delazione non ci pensavo nemmeno ma mi dicevo con quale coraggio lo guarderò in faccia ora se non dichiaro il mio delitto e seppure tu fossi stato all'altro capo del mondo ma in vita sarebbe stato ugualmente insopportabile l'idea che tu fossi vivo sapessi tutto e mi giudicassi io ho odiato come se fossi stato tu la causa tu il responsabile di tutto allora tornai da te ricordo che avevi un pugnale sul tavolo mi sedetti e ti chiesi di sederti e rimasi a pensare per un minuto buono se ti avessi ucciso comunque mi sarei rovinato per il tuo delitto anche se non avessi dichiarato il delitto precedente ma non pensavo a questo in quel momento e non volevo affatto pensare in quel momento provavo soltanto odio per te e volevo vendicarmi per tutto con tutte le mie forze ma nostro signore sconfisse il diavolo nel mio cuore sappi comunque che non sei mai stato così vicino alla morte come in quel momento una settimana dopo egli morì tutta la città accompagnò il suo feretro sino alla tomba l'arciprete pronunciò un discorso pieno di sentimento tutti rimpiangevano la terribile malattia che aveva stroncato i suoi giorni ma la città intera insorse contro di me dopo i suoi funerali cessarono persino di ricevermi vero è che alcuni pochi all'inizio ma poi sempre più numerosi cominciarono a dare credito alle sue disposizioni e sempre più numerosi erano quelli che venivano a trovarmi e a farmi molte domande con grande gioia e curiosità già che l'uomo ama la caduta e il disonore di un giusto ma io mantenni in silenzio e ben presto abbandonai la città cinque mesi dopo con la grazia di Dio mi inoltrai per una via sicura e magnifica benedicendo la mano invisibile che mi aveva indicato il cammino con tanta chiarezza tuttavia ogni giorno sino ad oggi ho ricordato nelle mie preghiere il servo di Dio Micael che tanto aveva sofferto dalle conversazioni e dai sermoni dello Starec Zosime cenni sul monaco russo e sul suo possibile valore padri e maestri miei che cos'è un monaco negli ambienti evoluti questa parola oggigiorno viene pronunciata da alcuni con scherno da altri persino come ingiuria e quanto più andiamo avanti tanto peggio è è vero oh se è vero che anche fra i monaci ci sono molti parassiti lussuriosi lascivi e sfacciati vagabondi gli istruiti uomini di mondo additano proprio quelli dicendo siete membri indolenti e inutili della comunità vivete del lavoro altrui siete degli svergognati accattoni eppure quanti monaci umili e miti esistono che anelano alla solitudine e alla preghiera fervente nella quiete a quelli non si presta attenzione anzi si passano completamente sotto silenzio e come ci si sorprenderebbe allora se dicessi che proprio da quei miti monaci che anelano alla preghiera in solitudine sorgerà forse ancora una volta la salvezza della terra russa zè che in verità essi si sono preparati in silenzio per quel giorno e quell'ora per quel mese e quell'anno essi custodiscono perfettamente integra l'immagine di Cristo nella loro solitudine nella purezza della verità di Dio dai tempi degli antichi padri degli apostoli e dei martiri e quando verrà il momento essi la mostreranno alla fede vacillante degli uomini questo è un pensiero sublime la stella sorgerà da oriente questa è la mia idea sul monaco è forse falsa è forse troppo presuntuosa guardate la gente del mondo è tutto quel mondo che viene glorificato al di sopra del popolo di Dio in esso l'immagine e la verità di Dio non sono state forse distorte essi hanno la scienza ma la scienza si occupa solo di ciò che è percepibile dai sensi il mondo spirituale la metà superiore dell'esistenza umana viene del tutto respinta ricacciata con una certa aria di triunfo persino con odio il mondo ha proclamato la libertà soprattutto negli ultimi tempi ma che cosa vediamo nella loro libertà solo schiavitù e autodistruzione da che il mondo dice se hai un'esigenza soddisfala tu hai gli stessi diritti della gente più nobile e ricca non temere di soddisfare le tue esigenze anzi moltiplicale pure ecco l'insegnamento che oggi dà il mondo in questo essi vedono la libertà ma che cosa in genere ha questo diritto di moltiplicare le esigenze per i ricchi l'isolamento e il suicidio spirituale per i poveri invece l'invidia e l'omicidio già che coloro che hanno dato loro i diritti non hanno ancora mostrato i mezzi per soddisfare le loro esigenze essi sostengono che il mondo si stia unendo sempre di più che si sta organizzando in una comunità fraterna nel momento che accorcia le distanze e trasmette i pensieri nell'aria ahimè non credete a questa unione fra gli uomini concependo la libertà come moltiplicazione e rapido soddisfacimento dei desideri gli uomini distorcono la propria natura già che generano in se stessi molti desideri e abitudini insensati e sciocchi molte sventatissime fantasie vivono solo per invidiarsi l'un l'altro per lussuria e ostentazione fare pranzi viaggi possedere carrozze gradi e servi che li accudiscano si considerano tutte necessità per le quali vale la pena di sacrificare perfino la vita l'onore l'amore per il prossimo e gli uomini sono pronti ad ammazzarsi se non riescono a soddisfare queste necessità assistiamo la stessa cosa per coloro che non sono ricchi ma i poveri per ora annegano nell'ubriachezza le esigenze insoddisfatte e l'invidia per questo si ubriacheranno di sangue anziché di vodka a questo li stanno conducendo io vi domando si può chiamare libero un uomo simile una volta ho conosciuto un guerriero per la causa e gli stesso mi raccontò che quando gli avevano tolto il tabacco in prigione aveva sofferto a tal punto per questa privazione che a momenti non aveva tradito la causa pur che gli dessero del tabacco eppure diceva vado a combattere per il bene dell'umanità ma dove può andare un uomo simile e che cosa è capace di fare egli sarà forse in grado di compiere un'azione immediata ma non reggerà a lungo e non c'è da meravigliarsi che al posto della libertà siano caduti nella schiavitù e invece di servire la causa dell'amore fraterno e dell'unione dell'umanità siano precipitati al contrario nella separazione e nell'isolamento come mi aveva detto il mio misterioso visitatore maestro quando ero giovane e quindi le idee di servizio all'umanità di fratellanza e solidarietà fra gli uomini si stanno estinguendo sempre più e alle volte vengono persino schernite giacché come può un uomo liberarsi delle proprie abitudini che ne sarà di lui se è succube dell'abitudine di soddisfare gli innumerevoli desideri che si è creato da solo egli è isolato e che cosa gliene è importa del resto dell'umanità sono riusciti ad accumulare una maggiore quantità di beni materiali ma la gioia è diminuita diversa è la strada del monaco l'obbedienza il diciuno e la preghiera sono persino oggetto di scherno ma la via verso la vera autentica libertà passa inevitabilmente attraverso di essi recido io stesso le esigenze superflue e inutili sottometto la mia volontà fiera e ambiziosa la umilio con l'ubbedienza e con l'aiuto di Dio raggiungo la libertà dello spirito e con essa la litizia spirituale allora chi è più capace di concepire una grande idea e di servirla il ricone isolato o colui che si è liberato dalla tirannia delle cose e delle abitudini si rimprovera al monaco il suo isolamento ti sei recluso fra le mura del monastero per la salvezza della tua anima e hai dimenticato il servizio fraterno all'umanità ma lo vedremo chi sarà più zelante nell'amore fraterno giacché il vero isolamento è il loro non il nostro ma loro non se ne avvedono nell'antichità molti capi del popolo provenivano dalle nostre fila perché mai non potrebbe ripetersi la stessa cosa adesso saranno proprio quei miti e umili digiunatori e campioni del silenzio a levarsi e a mettersi in marcia per la grande causa la salvezza della Russia deriva dal popolo e il monastero russo da tempi immemorabili e dalla parte del popolo se il popolo vive nell'isolamento anche noi viviamo nell'isolamento il popolo crede come crediamo noi e un riformatore non credente non riuscirà mai a combinare nulla in Russia per quanto sincero sia il suo cuore e geniale la sua mente tenetelo a mente questo il popolo andrà incontro all'ateo e lo sconfiggerà e resterà la sola Russia ortodossa prendetevi cura del popolo e custodite il suo cuore continuate ad educarlo nel silenzio questo è il vostro dovere di monaci già che questo popolo è portatore di Dio cenni sui padroni e sui servi e sulla possibilità che fra di essi si instauri la fratellanza dello spirito Dio mio sai chi dice che anche nel popolo esiste il peccato è il fuoco della corruzione di l'aga a vista d'occhio ora dopo ora divampa verso l'alto lo spirito dell'isolamento sta calando anche sul popolo si stanno affermando gli sfruttatori e i parassiti il mercante diventa sempre più avido di onori si sforza di apparire istruito pur non avendo un briciolo di istruzione e a questo scopo disprezza meschinamente le vecchie tradizioni e si vergogna persino della fede dei padri fa visita a principi rimanendo pur sempre un contadino corrotto il popolo si è imputridito per via del bere e non riesce a liberarsi da questo vizio e quale crudeltà manifesta verso la famiglia la moglie persino i figli tutto a causa del bere ho visto nelle fabbriche bambini anche di soli 10 anni fragili tisici curvi e già corrotti l'officina soffocante il rumore delle macchine la fatica che dura tutto il santo giorno le brutte parole e la vodka la vodka è di questo che ha bisogno l'anima di un bambino così piccolo egli ha bisogno di sole di giochi infantili di esempi luminosi tutti intorno a sé e se non altro di una briciola di amore non deve più esistere tutto questo monaci non devono esistere le angherie contro i bambini sollevatevi e professate la vostra fede magite presto presto in ogni caso Dio salverà la Russia già che per quanto sia depravato il suo popolo semplice e incapace di rinunciare al fetido peccato tuttavia esso è consapevole che quel fetido peccato è maledetto da Dio e che peccando agisce male così il nostro popolo crede fermamente nella verità riconosce Dio e piange di commozione non si può dire la stessa cosa di certi superiori essi seguendo la scienza vogliono darsi un giusto assetto con il solo cervello prescindendo da Cristo e hanno già proclamato che il crimine non esiste che il peccato non esiste e dal loro punto di vista questo è giustissimo già che se non c'è Dio come fa ad esserci il crimine in Europa il popolo sta già insorgendo con la violenza contro i ricchi e i capi del popolo dappertutto lo stanno conducendo a uno spargimento di sangue e gli stanno insegnando che la sua ira è giusta ma la rabbia del popolo è maledetta già che è crudele mentre sarà il Signore a salvare la Russia come ha già fatto molte volte la salvezza giungerà dal popolo dalla sua fede e dalla sua umiltà padri e maestri custodite la fede del popolo questo non è un sogno per tutta la vita mi ha colpito la magnifica autentica dignità del nostro grande popolo l'ho vista con i miei occhi lo posso testimoniare l'ho vista e ne sono rimasto stupito l'ho vista malgrado la degradazione dei suoi peccati e l'aspetto misero del popolo nostro il nostro popolo non è servile neanche dopo due secoli di schiavitù è libero nei modi e nel comportamento senza ricorrere all'insolenza non è vendicativo e non è invidioso tu sei nobile sei ricco sei intelligente e pieno di talento e così sia che Dio ti benedica ti rispetto ma so di essere un uomo anch'io è il fatto stesso che io ti rispetti senza invidiarti dimostra la mia dignità di uomo davanti a te in realtà il popolo non parla in questo modo se che non è in grado di farlo ma agisce così l'ho visto con i miei occhi l'ho sperimentato io stesso e ci credereste quanto più povero e disgraziato è il nostro uomo russo tanto più si evidenzia in lui questa magnifica verità mentre i contadini arricchiti gli sfruttatori sono per la maggior parte già corrotti e molto molto e di peso dalla nostra incuria e insofferenza ma Dio salverà il suo popolo già che la Russia è grande nella sua umiltà sogno di vedere e mi sembra già di vederlo chiaramente il nostro futuro avverrà che perfino il più corrotto dei nostri ricchi finirà per vergognarsi delle sue ricchezze davanti ai poveri e i poveri vedendo la sua umiliazione capiranno e gli cederanno e risponderanno con gioia e gentilezza alla sua onorevole vergogna credetemi andrà a finire così il mondo sta andando in quella direzione l'uguaglianza si troverà soltanto nella dignità spirituale dell'uomo e questo soltanto noi lo comprenderemo se fossimo fratelli ci sarebbe fratellanza ma prima che si instauri la fratellanza nessuno vorrà mai dividere equamente noi custodiamo l'immagine di Cristo e la faremo brillare come un diamante prezioso davanti a tutto il mondo così sia padri e maestri miei una volta mi accadde un fatto molto commovente durante i miei pellegrinaggi un giorno incontrai nella capitale del governatorato di Cappa il mio ex attendente a Fanasi erano passati otto anni da quando ci eravamo separati egli mi intravide per caso al mercato mi riconobbe e mi corse incontro era così contento mio Dio che si slanciò letteralmente verso di me Batiusca padrone siete voi siete proprio voi che rivedo qui mi condusse a casa sua aveva lasciato l'esercito si era sposato e aveva già due figlioletti in tenera età lui e sua moglie si guadagnavano da vivere con un piccolo commercio ambulante al mercato viveva in una cameretta misera malinda e allegra mi fece accomodare mi se abolire il samovar mandò a chiamare la moglie come se l'avermi incontrato fosse una festa per lui mi portò i suoi bambini benediteli Batiusca tocca forse a me benedirli gli rispose sono un semplice e umile monaco pregherò Dio per loro mentre per te a Fanasi Paolovic ho sempre sempre pregato ogni giorno da quel giorno stesso già che da te è nato tutto e gli spiegai ogni cosa come meglio potei e ci credereste quell'uomo continuava a fissarmi e non riusciva a farsi una ragione che io il suo padrone di un tempo un ufficiale mi trovassi davanti a lui in quel momento con quell'aspetto e con quell'abito scoppiò persino a piangere perché piangi gli domandai amico mio mai dimenticato dovresti rallegrarti per l'anima mia caro già che il mio cammino è felice e luminoso non parlo molto ma continuò a sospirare e a guardarmi scuotendo il capo tutto commosso ma che fine ha fatto la vostra ricchezza mi domandò l'ho ceduta al monastero viviamo tutti in comunità gli risposi dopo il tè presi a congetarmi da loro ed egli all'improvviso mi diede mezzo rublo come offerta per il monastero e un altro mezzo rublo me lo infilò nella mano dicendomi in fretta questo è per voi per i vostri pellegrinacci vi potrà tornare utile Batiusca accettai il suo mezzo rublo mi inchinai a lui e a sua moglie e me ne andai rallegrato durante il cammino pensavo ed eccoci qui tutti e due lui a casa sua ed io per la strada che sospiriamo ma che pure sorridiamo felici nella gioia dei nostri cuori scuotendo il capo al ricordo di come Dio ci ha fatto incontrare di nuovo da quel giorno non lo rividi mai più un tempo era stato il suo padrone e lui il mio servitore ma nel momento in cui ci eravamo baciati con affetto e commozione interiore tra di noi si era instaurata una profonda unione umana ci ho riflettuto a lungo e il mio pensiero è questo è davvero così inconcepibile che questa grande e semplice unione possa a suo tempo verificarsi in ogni dove tra la nostra gente russa io credo che si verificherà e credo pure che quel tempo sia vicino a proposito dei servi aggiungerò quanto segue quando ero giovane mi addiravo spesso con la servitù vuoi perché la cuoca aveva servito una pietanza troppo calda vuoi perché l'attendente non aveva pulito bene l'abito ma mi illuminò di colpo l'idea che avevo sentito dal mio caro fratello quando ero ancora piccolo mi merito io che un altro mi serva e che io gli impartisca ordini solo perché lui è povero e ignorante e allora mi meravigliai che idee così semplici e evidenti possano tardare ad affacciarsi alla nostra mente senza servi non si può andare avanti a questo mondo ma allora facciamo in modo che il tuo servo sia più libero nello spirito di quanto sarebbe se non fosse un servo e perché mai io non potrei essere il servo del mio servo e persino fare in modo che egli non se ne avveda senza orgoglio da parte mia e alcuna diffidenza dalla sua perché mai il mio servo non potrebbe diventare un mio familiare e io non potrei accoglierlo nella mia famiglia e gioire per questo persino adesso sarebbe possibile realizzare tutto questo e questo servirebbe da fondamento per una futura e questa volta magnifica unione degli uomini quando l'uomo non cercherà dei servi né vorrà trasformare in servi gli uomini come fa ora ma al contrario vorrà egli stesso divenire servo di tutti secondo l'insegnamento del Vangelo ed è forse un sogno che alla fine l'uomo possa provare gioia soltanto compiendo azioni di luce e misericordia invece che indulgendo in piaceri crudeli come fa adesso nella crapula nella fornicazione nella boria nella millanteria e nella invidiosa prevaricazione di uno sull'altro credo fermamente di no e credo che il tempo sia vicino c'è chi ride e mi domanda ma quando dovrebbe venire questo tempo e sarà poi vero che verrà io credo che con l'aiuto di Cristo realizzeremo questa grande opera e quante idee sono sorte sulla terra nella storia dell'uomo che sarebbero state inconcepibili dieci anni prima ma poi sono comparse all'improvviso quando è scoccata la loro misteriosa ora e si sono diffuse in tutto il mondo sarà così anche per noi e il nostro popolo splenderà dinnanzi al mondo e tutti diranno la pietra che gli edificatori avevano rigettato è diventata la pietra angolare dell'edificio e noi potremmo chiedere a chi ci derise se la nostra speranza è un sogno quando è che voi costruirete il vostro edificio e vi darete un giusto ordine soltanto con il vostro intelletto senza Cristo se invece essi dichiareranno di mirare all'unità solo i più ingenui fra di loro ci crederanno e di questa ingenuità ci si potrà ben meravigliare in realtà il loro è un sogno più inverosimile del nostro pensano di darsi un giusto ordine rifiutando Cristo ma finiranno con l'inondare il mondo di sangue giacché il sangue invoca altro sangue e chi di spada ferisce di spada perisce e se non fosse per la promessa di Cristo quelli si massacrerebbero l'un l'altro fino a rimanere soltanto in due sulla terra e anche quei due superstiti non sarebbero capaci a causa del loro orgoglio di sopportarsi a vicenda tanto che l'ultimo ucciderebbe il penultimo e poi se stesso e avverrebbe proprio questo se non ci fosse la promessa di Cristo secondo la quale grazie ai miti e agli umidi questo stato di cose avrà una fine indossavo ancora l'uniforme dopo il duello quando cominciai a parlare dei servi alle riunioni mondane e ricordo che tutti ne erano molto meravigliati ma che dite dovremmo forse far accomodare i nostri servi sul divano e offrire loro e io rispondevo loro perché no qualche volta si potrebbe e tutti scoppiavano a ridere la loro domanda era flivola e la mia risposta era poco chiara ma penso che in essa ci fosse un barlume di verità dove si parla della preghiera dell'amore e del contatto con altri mondi giovane non dimenticare la preghiera ogni volta che preghi se la tua preghiera è sincera in essa baluginerà un nuovo sentimento e una nuova idea che prima non conoscevi e che ti ridarà nuova forza e capirai che la preghiera è crescita ricordati anche questo ogni giorno e ogni volta che ne hai la possibilità ripeti a te stesso signore abbi pietà di tutti coloro che compariranno dinnanzi a te in questo giorno già che ogni ora in ogni istante migliaia di persone abbandonano la loro vita su questa terra e le loro anime si presentano a dio quante di loro si sono separate dalla terra in solitudine senza che nessuno lo sapesse triste e angosciate che nessuno le piangesse o solo fosse a conoscenza della loro esistenza se avessero vissuto oppure no ed ecco che forse dall'altro capo del mondo si innalza a dio la tua preghiera che invoca il loro eterno riposo anche se tu non conoscevi loro e loro non conoscevano te come deve essere toccante per quell'anima che sta atterrita di fronte al signore sentire che in quel momento c'è qualcuno che prega per lei che è rimasta almeno una creatura umana sulla terra che ancora la ama e anche dio guarderà con occhio più misericordioso tutti e due già che se tu hai avuto tanta pietà di quell'anima di quanta pietà in più sarà capace colui che è infinitamente più misericordioso e amorevole di te e lo perdonerà per amore tuo fratelli non abbiate paura del peccato degli uomini amate l'uomo anche nel suo peccato c'è che proprio questa è l'immagine dell'amore divino ed è la forma suprema dell'amore sulla terra amate tutte le creature divine l'intera creazione come ciascun granello di sabbia amate ogni fogliolina ogni raggio di vino amate gli animali amate le piante amate ogni cosa se amerete ogni cosa in ogni cosa coglierete il mistero di dio e una volta che lo avrete colto lo comprenderete ogni giorno di più giorno dopo giorno arriverete finalmente ad amare tutto il mondo di un amore onnicomprensivo universale amate gli animali dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata non siate voi a turbarla non li maltrattate non privateli della loro gioia non contrastate il pensiero divino uomo non ti vantare di superiorità nei confronti degli animali essi sono senza peccato mentre tu con tutta la tua grandezza insozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te purtroppo questo è vero per quasi tutti noi amate in special modo i bambini già che essi sono senza peccato come gli angeli essi vivono per commuovere e purificare i nostri cuori e rappresentano una sorta di indicazione per noi guai a chi offende un bambino padre Anfim mi insegnò ad amare i bambini quell'uomo dolce e taciturno durante i nostri pellegrinaggi amava comprare con i soldini che ci avevano donato dolcetti e caramelle da distribuire ai bambini passando accanto ai bambini egli non poteva fare a meno di provare emozione ecco la natura di quell'uomo davanti a certi pensieri si rimane perplessi soprattutto vedendo il peccato degli uomini e ci si domanda bisogna ricorrere alla forza o all'umile amore decidi sempre per l'umile amore se deciderai per quello una volta per tutte potrai conquistare il mondo intero l'umanità amorevole è una forza terribile la più potente di tutte non c'è niente che le stia alla pari ogni giorno e ogni ora ogni minuto osserva te stesso e bada che la tua immagine sia splendida ti potrebbe capitare di passare accanto a un bambino pieno di stizza e pronunciando brutte parole con l'anima erosa tu potresti anche non aver notato quel bambino ma egli ha visto te e la tua immagine cattiva e ignobile potrebbe imprimersi nel suo cuoricino indifeso tu non lo sai ma potresti aver seminato un seme cattivo in lui e quel seme potrebbe crescere e tutto perché non sei stato cauto in presenza dei bambini perché non hai nutrito in te stesso l'amore vigile attivo fratelli l'amore è un grande maestro ma dovete saperlo acquistare già che esso si acquista con difficoltà si compra a caro prezzo attraverso un lungo lavoro e in tempi molto lunghi già che non dobbiamo amare solo occasionalmente ma per sempre tutti sono capaci di amare occasionalmente anche un malfattore può farlo mio fratello chiedeva agli uccellini di perdonarlo questo sembrerebbe privo di senso eppure giusto tutto è come un oceano in cui tutto scorre e tutto confluisce un contatto con un punto genera una ripercussione all'altro capo del mondo che sia pure privo di senso chiedere perdono agli uccellini ma gli uccellini sarebbero più felici accanto a te e così anche i bambini e tutti gli animali se tu fossi più splendido di quello che sei ora anche solo un pochino vi dico che tutto è come un oceano quindi iniziereste a pregare pure gli uccellini consumati da un amore onnicoprensivo in una specie di trasporto e a pregare che anche essi vi rimettano il vostro peccato fa tesoro di quel trasporto per quanto privo di senso possa parire gli uomini amici miei chiedete a dio di essere allegri siate allegri come i bambini come gli uccellini del cielo e non permettete che il peccato degli uomini confonda le vostre azioni non abbiate paura che logori il vostro operato e ne impedisca la realizzazione non dite il peccato è potente la disonestà è potente potente è l'ambiente del male mentre noi siamo deboli e soli l'ambiente malefico ci sta allogorando e ci impedisce di realizzare le nostre buone azioni fuggite figli miei fuggite da questa afflizione c'è solo un modo per salvarsi renditi responsabile di tutti i peccati degli uomini è proprio così amico mio già che non appena ti considererai sinceramente colpevole di tutto e per tutti ti accorgerai immediatamente che quella è la verità che tu sei davvero colpevole per tutti e per tutto invece riversando la tua indolenza e la tua impotenza sugli altri finirai per condividere l'orgoglio di Satana e mormorerai contro Dio a proposito dell'orgoglio di Satana penso che sia difficile per noi sulla terra comprenderlo e quindi è facile cadere in fallo e condividerlo persino nella convinzione di fare qualcosa di nobile e bello in realtà noi non siamo in grado di comprendere molti dei sentimenti e dei movimenti più forti della nostra natura fino a quando ci troviamo sulla terra ma non lasciarti tentare da questo e non pensare che questo possa in qualche modo giustificarti giacché il giudice eterno pretenderà da te quello che tu puoi comprendere e non quello che non puoi comprendere te ne convincerai da solo giacché allora vedrai ogni cosa nella giusta luce e non metterai più nulla in discussione in realtà è come se sulla terra noi tutti erassimo senza meta e se non fosse per la preziosa immagine di Cristo che è davanti a noi saremmo rovinati e perduti del tutto come il genere umano prima del diluvio molte cose sulla terra ci sono nascoste ma in compenso c'è stato donato un misterioso recondito senso del nostro vivido legame con un altro mondo un mondo superiore celeste e le radici dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti non sono qui ma in altri mondi ecco perché i filosofi asseriscono che è impossibile concepire l'essenza delle cose sulla terra Dio prese i semi da altri mondi e disseminò su questa terra il suo giardino crebbe e tutto quello che poteva germogliare germogliò ma ciò che è cresciuto vive ed è vivo esclusivamente in virtù di quel senso di contatto che avverte con gli altri mondi misteriosi se questo senso si indebolisce o scompare in te morirà anche ciò che è cresciuto in te allora diventerà indifferente alla vita e comincerai persino a odiarla ecco quello che penso si può essere giudici dei propri simili dove si parla della fede ad oltranza ricordati soprattutto che non puoi essere giudice di nessuno giacché non può esistere sulla terra giudice di un criminale se quello stesso giudice prima non abbia compreso che egli è un criminale al pari di quell'uomo che gli sta di fronte e che egli stesso è colpevole forse più di chiunque altro di quel crimine solo quando avrà compreso questo un uomo potrà diventare giudice per quanto possa sembrare assurda questa è la verità già che se io fossi stato giusto forse quel criminale che ora sta di fronte a me non sarebbe stato tale se riuscirai ad assumere su di te il delitto del criminale che ti sta di fronte e che viene giudicato dal tuo cuore fallo subito e soffri tu stesso al posto suo e lascialo andare senza alcun rimprovero e anche se la legge stessa ti designasse suo giudice per quanto sarà nelle tue facoltà agisci nello stesso spirito giacché andandosene egli giudicherà se stesso assai più severamente di quanto hai fatto tu se dopo il tuo bacio egli andrà via immutato nei sentimenti e pieno di scherno verso di te non farti indurre in tentazione neanche da questo vuol dire che la sua ora non è ancora arrivata ma verrà anche il suo momento e se non verrà non fa nulla se non sarà lui un altro uomo capirà al posto suo e soffrirà e giudicherà e condannerà se stesso e la verità sarà realizzata credete in questo credeteci fermamente già che in questo risiedono tutta la speranza e la fede dei santi lavora senza posa se di notte prima di addormentarti ti sovviene non ho fatto quello che avrei dovuto alzati senza indugio e fallo se gli uomini intorno a te sono cattivi e insensibili e non vogliono ascoltarti cade in ginocchio davanti a loro e chiedi il loro perdono già che in vero anche tu sei colpevole del fatto che essi non ti vogliono ascoltare e se non riuscirai a parlare con loro a tal punto essi sono inaspriti allora servili in silenzio e in umiltà senza mai perdere la speranza se tutti ti abbandoneranno o addirittura ti caceranno con la violenza rimasto in solitudine prostrati e bacia la terra bagnala con le tue lacrime e grazie a quelle lacrime la terra ti darà frutti anche se nessuno ti avesse visto o sentito nella tua solitudine abbi fede oltranza anche se dovesse accadere che tutti gli uomini si corrompessero e tu rimanessi l'unico fedele porta le tue offerte anche in quel caso e l'ode il Dio per la tua solitudine e se incontrerai un altro come te allora sareste un mondo intero un mondo di amore vivente abbracciatevi l'un l'altro commossi e lodate il Dio già che almeno in voi due la sua verità si sarà compiuta se commetterai peccato anche tu e sarai addolorato sino alla morte per i tuoi peccati o per un tuo peccato improvviso gioisci per gli altri gioisci per i giusti gioisci per il fatto che anche se tu hai peccato un altro è stato giusto e non ha peccato se le malefatte degli uomini susciteranno in te indignazione e un dolore insopprimibile tali da indurti addirittura a farti desiderare la vendetta allora temi sopra ogni altra cosa proprio questo sentimento cerca subito di procurarti delle pene come se tu stesso fossi colpevole di quelle malefatte accetta quelle pene e sopporta e il tuo cuore troverà conforto e capirai che anche tu sei colpevole già che avresti potuto risplendere come l'unico senza peccato agli occhi di quei malfattori e invece non l'hai fatto se tu fossi stato una luce avresti illuminato il cammino degli altri e colui che ha commesso una malefatta forse non l'avrebbe commessa illuminato dalla tua luce ma anche se la tua luce risplendesse e tu vedessi che gli uomini non vengono salvati da essa tu resisti lo stesso e non dubitare del potere della luce celeste abbi fede che seppure non si sono salvati adesso si salveranno in futuro e se non si salvassero in seguito si salveranno i figli loro giacché la tua luce non morirà nemmeno se tu stesso sarai morto il giusto se ne va ma la sua luce rimane accade sempre che gli uomini si salvino solo dopo la morte di colui che intendeva salvarli il genere umano non accoglie i suoi profeti e li massacra ma gli uomini amano i propri martiri e onorano coloro che hanno torturato tu stai lavorando per tutto il creato stai agendo per il futuro non ambire a ricompense già che comunque la tua ricompensa su questa terra è già sublime è la gioia dello spirito che solo un giusto si conquista non temere gli illustri o i potenti ma sii saggio e sempre sereno sappi la misura sappi il tempo d'ogni cosa approfondisci tutto questo quando rimarrai in solitudine prega che il prostrarti per terra e il baciare la terra ti siano cari bacia la terra e amala incessantemente insaziabilmente ama tutti ama tutto ricerca l'esultanza e l'estasi che riserva questo amore irrora la terra con le lacrime della tua felicità e amale quelle tue lacrime non provare vergogna per questa estasi abbine cura giacché è un dono divino un grande dono che non a molti è concesso solo agli eletti dove si parla dell'inferno e del fuoco infernale una riflessione mistica padri e maestri io mi domando che cos'è l'inferno e do la seguente risposta la sofferenza di non essere più capaci di amare una volta nell'esistenza infinita incommensurabile in termini di spazio e tempo a una creatura spirituale fu concessa in occasione della sua comparsa sulla terra la facoltà di dire io sono e io amo una volta soltanto una volta sola gli fu concesso un istante di amore attivo vivo e per quello gli fu concessa la vita sulla terra e con essa le stagioni e i tempi e che cosa avvenne quella creatura fortunata rifiutò l'inestimabile dono non lo apprezzò non lo amò lo denigrò e rimase insensibile quella stessa creatura che aveva già abbandonato la terra vede il seno di abramo e gli parla come tramandato nella parabola dell'uomo ricco di lazzaro e osserva il paradiso e potrebbe salire al signore ma si tormenta proprio per questo salire da dio proprio lui che non ha mai amato entrando in contatto con coloro che lo hanno amato di quell'amore che egli ha disprezzato Zacchei li vede chiaramente e dice a se stesso adesso ne ho la conoscenza e se anche io adesso annelassi ad amare non ci sarebbe nulla di eroico nel mio amore né ci sarebbe sacrificio già che la vita terrena è cessata e abramo non verrà neanche con una goccia d'acqua viva cioè il dono della vita eterna e attiva di un tempo per refrigerare la fiamma della sete di amore spirituale che adesso arde in me e che invece ho disprezzato sulla terra non c'è più vita e non ci sarà più tempo sarei lieto di cedere la mia vita per amore degli altri ma non lo posso più fare già che è passata quella vita che poteva essere sacrificata per amore e adesso c'è un abisso tra quella vita e questa esistenza si parla delle fiamme dell'inferno in senso materiale non indago in questo mistero che mi atterrisce ma penso che se davvero esistessero le fiamme in senso materiale i peccatori se ne rallegrerebbero c'è che ritengo che grazie ai tormenti fisici essi potrebbero almeno per un momento dimenticare le ben più terribili pene dello spirito e non è nemmeno possibile liberarli da quella pena spirituale c'è che quel tormento non è fuori bensì dentro di loro ma seppure fosse possibile liberarli da esso credo che la loro infelicità si farebbe ancora più amara c'è che se anche i giusti dal paradiso li perdonassero guardando i loro tormenti e li chiamassero a sé in paradiso in virtù del loro amore infinito essi non farebbero che aumentare i loro tormenti c'è che alimenterebbero in loro più forte che mai la fiamma della sete di un amore reciproco attivo e riconoscente che ormai è impossibile nell'umiltà del mio cuore credo tuttavia che la stessa consapevolezza di questa impossibilità allevierebbe le loro pene infinite c'è che accettando l'amore dei giusti assieme all'impossibilità di ricambiare quell'amore nella sottomissione per azione di questa umiliazione in qualche modo essi raggiungerebbero almeno una pervenza di quell'amore attivo che hanno disprezzato sulla terra o una sorta di attività che gli fosse affine mi rincresce fratelli e amici miei di non riuscire a spiegarlo chiaramente ma guai a coloro che hanno distrutto se stessi sulla terra guai ai suicidi credo che non ci sia nessuno più infelice di loro ci dicono che sia un peccato pregare per loro e la chiesa esteriormente sembra rifiutarli ma nell'intimo dell'anima mia credo che si possa pregare anche per loro l'amore non potrà mai essere un'offesa per Cristo per quelli come loro dentro di me ho pregato per tutta la mia vita ve lo confesso padri e maestri e continuo a pregare per loro anche adesso oh all'inferno ci sono anche quelli che continuano ad essere fieri e violenti nonostante contemplino e conoscano senza ombre di dubbio l'inconfutabile verità ci sono dannati terribili che si sono donati completamente a Satana e al suo fiero spirito per coloro l'inferno è volontario essi non se ne saziano mai essi hanno voluto quelle torture zecchiano maledetto se stessi maledicendo Dio e la vita si cibano del loro orgoglio rabbioso così come gli affamati nel deserto succhiano il sangue del proprio corpo ma rimangono insaziabili nei secoli dei secoli e rifiutano il perdono essi maledicono il Signore che li chiama a sé non possono contemplare il Dio vivente senza l'odio ed esigono che non esista il Dio della vita che Dio distrugga se stesso e tutto il suo creato e bruceranno nel fuoco della loro rabbia in eterno anelando la morte e l'annullamento ma essi non otterranno la morte qui termina il manoscritto di Alexei Fyodorovich Karamazov lo ripeto esso è incompleto e frammentario le notizie biografiche per esempio riguardano soltanto la prima giovinezza dello Starec gli insegnamenti e le opinioni qui esposti tutti insieme in realtà sono stati formulati in periodi diversi e in diverse circostanze quello che lo Starec disse nelle ultime ore della sua vita non è stato precisato ma da quello che Alexei Fyodorovich ha riportato nel suo manoscritto dai sermoni precedenti dello Starec si può avere perlomeno un'idea del carattere dello spirito anche di quell'ultima conversazione la morte dello Starec fu davvero inaspettata giacché sebbene coloro che si erano riuniti intorno a lui quell'ultima sera avessero compreso che la sua morte era vicina non avrebbero mai immaginato che sarebbe avvenuta così presto al contrario i suoi amici come ho già detto in precedenza vedendolo così apparentemente allegro e loquace si erano persino convinti che il suo stato di salute avesse avuto un netto miglioramento anche se solo provvisorio persino cinque minuti prima della sua morte come riferirono in seguito con stupore non avrebbero previsto nulla di simile egli avvertì all'improvviso un fortissimo dolore al petto e in pallidì e serrò forte la mano al cuore si alzarono tutti dai loro posti e accorsero verso di lui anche se soffriva egli li guardava con il sorriso sulle labbra scivolando dolcemente dalla sedia e cadendo in cinocchio poi abbassò il capo sino a terra allargò le braccia e come in un'estasi radiosa baciando la terra in preghiera come aveva insegnato lui stesso rendette serenamente e gioiosamente l'anima a dio la notizia della sua morte fece immediatamente il giro dell'eremo e raggiunse il monastero gli amici più intimi del defunto e coloro ai quali spettava per la loro posizione gerarchica presero a comporre il corpo secondo il vecchio rituale mentre i monaci tutti si riunivano nella chiesa madre ancora prima dell'alba come si raccontava in seguito la notizia del decesso era giunta in città al mattino quasi tutta la città commentava l'avvenimento e una moltitudine di cittadini affluiva al monastero ma di questo parleremo nel libro successivo per ora aggiungeremo soltanto che non era passato un giorno quando si verificò qualcosa di così inatteso per tutti e per l'impressione che produsse nell'ambiente del monastero in città di così strano allarmante e sconvolgente che a tutt'oggi dopo tanti anni nella nostra città si conserva il più vivo ricordo di quel giorno per molti così inquietante per l' Mongolia che si fai attrappare la mia attrappare l'abbiamo l'abbiamo attrappare la mia attrappare l'abbiamo Grazie a tutti.